Con il vostro contatto inizio i lavori di questa giornata e su un tema molto importante, rilevante, insomma, ha molto a che fare. Vi chiedo cortesemente di chiudere i vostri microfoni. Grazie. Il tema è quello della legge 3 del 2012 come emendata. La legge 3 del 2012, anche detta legge anti-suicidi, ha una sua funzione storica e questa legge non è che sia stata una best practice dal punto di vista di implementazione che è andata nel tempo costruendosi molto lentamente e a macchia di lopardo sul territorio. Ecco, noi abbiamo un esempio francese invece eclatante dal punto di vista di pragmaticità e di efficienza e prego a questo punto di Giovanni Pastore di commentare i due numeri che ci sembrano importanti far vedere. A te Giovanni. No, devi attivare il microfono Giovanni. Ok. Allora, riparto. Saluto tutti. Abbiamo voluto iniziare questo seminario rivolgendo lo sguardo a due aspetti che solitamente nel dibattito italiano sono tratturati, quando addirittura non sono nemmeno presi in considerazione. Gli aspetti sono come viene affrontato negli altri paesi sviluppati il tema che stiamo trattando e poi i dati oggettivi del fenomeno sociale, per quanto è possibile ritrovare questi dati oggettivi nel totale disinteresse dello Stato italiano e dei suoi organismi burocratici, Istat, eccetera, eccetera, a fronte di questi fenomeni sociali. La prima slide è un libro scritto nel 2004 da Elizabeth Warren, con prefazione del professor Maurizio Fiasco. È interessante notare come già quasi vent'anni fa ci fosse chi cercava di andare a fondo su questo libro. Alfonso, cerca di individuare chi è che invita gli amici a cena. Prosegui. Prosegui, prosegui per cortesia. Allora, perché è interessante questo libro? Ripeto, è interessante appunto perché ci fa vedere come da anni si stia trattando questo tema, ma soprattutto Elizabeth Warren... No, perché vogliamo fare yoga! Sette e mezza! Sette e mezza! Chi è che mi aiuta ad abbattere questa voce, per cortesia? Prosegui, Giovanni. Elizabeth Warren è una senatrice degli Stati Uniti, è stata tra le dieci persone che sono state nominate in un comitato per raddrizzare le sorti del Partito Democratico dopo il 2016. Si è candidata come Presidente degli Stati Uniti ed è stata una delle prime che si è ritirata a favore di Biden. È stata in procinto di essere nominata segretario al Tesoro e è probabile che durante la presidenza Biden, la l'ho citata, perché è probabile che durante la presidenza Biden escano dei provvedimenti interessanti sul tema del proverdebitamento. Oggi non so. Passiamo ora... Stanno montando. E quella lì che deve far da mangiare... Perdonate, allora, facciamo una cosa. Ma perché fabbiamo tutto? Allora, un secondo che disattivo tutti perché purtroppo quando si ha il computer... Vai velocemente sui numeri per cortesia, Giovanni. Eh, mi devi mandare la slide. Ok, questa ne abbiamo parlato. Ok, i dati, no, i dati francesi, quella di prima. Ecco, abbiamo utilizzato i dati francesi perché la Francia ha una struttura sociale sostanzialmente identica alla nostra e perché poi la legislazione italiana è molto mutuata, come successe per l'usura, da quella francese. Dal 2011 al 2019 sono state depositate due milioni di domande di sdebitamento presso la Banca di Francia, sono state accettate un milione ottocentocinquanta, sono stati giudicati meritevoli il novanta per cento delle domande. Ecco, è interessante in due sensi. Adesso guardiamo la situazione italiana. Ad aprile 2020 c'erano in Italia circa due milioni di posizioni di indebitamento, mentre in Francia sono stati capaci di smaltirli. In Italia l'unico strumento utilizzato sono sostanzialmente le esecuzioni immobiliari, i pignoramenti e così via. Tenete conto che nel 2019 in Italia erano attive 7 mila domande di sovraindebitamento. L'altra considerazione che ci suggerisce il dato francese è quella sui meritevoli. Siccome qui in Italia si discute molto sui meritevoli, il fatto che un'istituzione seria come quella Banque de France abbia giudicato il novanta per cento dei sovraindebitati meritevoli, la dice lunga sulla composizione sociale e sulle difficoltà di questi sovraindebitati. Vediamo adesso questa slide che aveva messo, ecco questa, che è interessante anche da un punto di vista delle pratiche che dovremmo affrontare. Sottolineo anche qui che questi dati li abbiamo dovuti cercare, non certamente sulle fonti ufficiali, ma derivano sostanzialmente dalle società di recupero crediti che fanno degli studi per capire cosa possono recuperare. Allora, caratterizzazione sociale. I debitori in Italia risultano al 40% disoccupati, e ho messo quella a quadruplo punto interrogativo perché è evidente che in un'assenza di protezione ci sono molte famiglie che hanno scelto il lavoro in nero o comunque lavori, diciamo, di paralleli per non essere, perché non gli venga portato via al minimo indispensabile per sovrapposti. Ma va? Un altro dato interessante sono i redditi medi, perché anche questo teniamo presente che nella sdebitazione per incapienza poi ovviamente va lasciato al debitore una quantità di reddito sufficiente per vivere. I dipendenti hanno circa 1.200 euro al mese di media di reddito, stiamo parlando degli indebitati, i pensionati 1.020 euro di reddito al mese. Passa pure all'altra slide. Ecco, questa slide è interessante perché dimostra l'effetto della cessione degli NPL e degli UTP su questa questione dello sdebitamento. È franata anche quella piccola tensione che le banche a volte riservavano al correntista che aveva un mutuo e quindi si è saltati dal 2018 al 2019 dal 46% di proprietà immobiliari presenti nel patrimonio dell'indebitato al 51,2%. Ecco, questo è un dato molto interessante perché rende ancora più importante la necessità di cercare di salvare questo piccolo patrimonio, che sono generalmente piccole case di abitazione, degli indebitati e quindi con la processoressa Sciarone e con altri stiamo lavorando anche su una modifica del 41 bis sulla rinegoziazione dei mutui che faciliti questa questione. Ulteriore dato che può essere interessante è la stima del numero delle prime case piccole proprietà immobiliari svendute nel periodo 2011-2019 lasciando la famiglia sovraindebitata e incapiente e sono circa 300.000. E questo è di nuovo un dato importante dal punto di vista di capire cosa sono gli incapienti e perché sono diventati incapienti. L'ultimo dato è se mi rimetti quella slide un attimo Alfonso è quello sui conti correnti. Non capisco quale slide tu ti riferisci. Ah, è l'ultima che ti ho mandato. Vabbè, allora la dico a voce. Sostanzialmente il 25% degli indebitati non ha più un conto corrente. Questo vuol dire che sono un 25% di indebitati che se vogliono avere un credito praticamente possono rivolgersi solamente al credito malavitoso. Un altro dato interessante è il fatto che il 25% è un dato nazionale il dato del nord è il 30%. Quindi al nord dove c'era più piccola proprietà più lavoratori dipendenti con immobili di proprietà piccole aziende produttive pensiamo al Veneto pensiamo a certe province della Lombardia la crisi ha colpito in maniera ancora più dura e c'è un 30% di indebitati quindi superiore alla media nazionale che non hanno che non hanno il conto corrente. Termino termino dicendo che quando cito questi dati come le 300.000 famiglie indebitate che sono diventate incapienti per questa assurdità esclusivamente italiana dell'unica forma di recupero nelle aste immobiliari potrebbe esserci qualcuno che obietta non è così ha una visione di parte oppure per dirla come Davide Serra gli italiani sono furbi trovano sempre un sistema eccetera purtroppo non è comparso nella slide probabilmente per un disguido tecnico poi lo metterò nella chat consiglio a tutti di andarsi a vedere la audizione alla commissione banche del più grande esperto di recupero crediti italiani il presidente della guberbank Francesco Guarneri che dice assolutamente dal punto di vista di queste cifre le stesse cose che diciamo noi ecco questo è il contesto numerico della situazione che poi noi adesso cerchiamo di affrontare da un punto di vista giuridico giurisprudenziale e così via vi ringrazio per avermi ascoltato grazie mille ho visto Alfonso scusami ho visto che è intervenuto nella chat il senatore Pesco il cui apporto è stato indispensabile per ottenere il sovraindebitamento non fosse altro che ha presentato sei volte lo stesso emendamento quindi siccome tra un po' ricomincia la seduta in senato chiedevo se poteva farci un breve saluto prima di ricominciare i lavori in senato Daniele attiva il video cortesemente chi siamo grazie grazie Alfonso grazie Giovanni allora l'intervento di Giovanni anche quello di Alfonso all'inizio è stato ascoltato da cinque senatori siamo qui riuniti insieme a Elio Rossella Cotto Giamoro dell'Olio Franco Mostacci mio collaboratore c'era anche Vincenzo Presutto siamo in pausa durante l'aula sapete che oggi è un giorno abbastanza così diciamo così intenso e hanno sospeso l'aula della sanificazione tra un po' torniamo giù perché riprende la discussione generale sulla fiducia e e quindi sì abbiamo fatto una pausa ristoro come avete potuto vedere non ci vergogniamo perché ogni tanto abbiamo bisogno anche noi di insomma rifocilarci un attimo perché non sta andando assolutamente bene la giornata però ci sono buone speranze per riuscire a chiudere con un piccolo successo e poi speriamo nei giorni a seguire di avere veramente le risorse umane per poter mettere in piedi una maggioranza come si deve e andare avanti speriamo noi confidiamo molto nella continuazione di questo di questa azione di governo che secondo me ha fatto molto e voi ne avete le prove nel senso che almeno sui temi sul sovraindebitamento e sull'aiuto alle persone che hanno bisogno qualcosa abbiamo fatto e sono contento il fondo salva casa c'è seppur difficoltoso nell'utilizzo però c'è e dobbiamo insegnare alle società e alle fondazioni la necessità di investire per salvare le case degli italiani sovraindebitati e dirò qualcosa in più con Alfonso ci sentiamo spesso con Giovanni Anche c'è da fare molto sulle nuove regole bancarie sul default a breve abbiamo già depositato e a breve sarà pubblicata una mozione con la quale cerchiamo di dare qualche consiglio al governo su cose da fare sarà pubblicata domani e troverete alcune cose che chiediamo al governo di fare in modo repentino perché se no succede veramente scoppia la bomba atomica per delle definizioni e per delle classificazioni a default che è quando default non è secondo me secondo me secondo molti altri queste nuove regole affosseranno la nostra economia se non si interviede in modo in modo repentino e sappiamo già che la nostra economia è già particolarmente diciamo così in difficoltà non aggiungo altro rivolgo i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno si sono adoperati per riuscire a far passare queste modifiche sul sovraindebitamento abbiamo veramente dato un grande contributo per molte famiglie che in difficoltà potranno accedere anche a livello familiare a una singola procedura di sovraindebitamento i tribunali avranno dei strumenti in più per rendere più facile l'adesione l'accesso e anche la valutazione da parte del giudice sarà più facile l'esdebitazione sappiamo che è una cosa che noi rincorrevamo da tempo insomma tante cose sono veramente tra virgolette orgogliose il lavoro fatto con l'aiuto di tutti coloro che hanno dato una mano e ricordiamo che non è stato facile abbiamo messo più di sei mesi per farla passare quindi costando in maggioranza capite che difficoltà che abbiamo che abbiamo dovuto superare quindi non aggiungo altro vi ringrazio e se riesco cerco di ascoltare un po' le cose che direte grazie grazie Daniele non scordate l'adeguata verifica alle aste ecco sono una riga da introdurre nei testi di legge la proposta di legge c'è devo verificare a che punto è comunque adesso mi raccomando perché è stata sospesa per questi mesi adesso riprende cercheremo di farla calendarizzare e cercheremo qual è magari se ci fosse un decreto adatto per inserirla magari attraverso il decreto grazie per averla una lancia di urgenza a questa cosa perché è un intruffolamento di malavita organizzata pericolosa potenziale rischio naturalmente grazie Daniele grazie del tuo contributo veniamo al convegno e passo la parola subito ad Antenella Sciarrone che ha proprio dovuto proprio prendere il testo in mano cosa hai detto Mauro? no qui dovete stare attenti cortesemente a non attivare l'audio a te Antonella grazie in effetti se riusciamo a tenere tutti gli audio spenti è meglio altrimenti diventa un po' surreale tutta la conversazione allora beh mi è fatto piacere devo dire sentire il senatore Pesco in un momento così difficoltoso di vita politica di attaccarsi al nostro webinar per parlare di sovraindebitamento devo dire che spassionatamente che ci tiene veramente molto e che è stato un supporter importante rispetto a queste a questa riforma allora dunque io vorrei senza portare via troppo tempo perché siamo in tanti ad intervenire descrivere sostanzialmente a livello generale le modifiche che sono state introdotte che sono state introdotte andando a recepire diciamo così alcune delle soluzioni più innovative che il codice della crisi aveva introdotto con riferimento alle procedure di composizione del sovraindebitamento e spostando queste soluzioni all'interno della legge numero 3 2012 già su questo merita proprio di spendere due parole perché come tutti sapete perché credo che la maggior parte dei partecipanti sia ben esperta della materia però come tutti sapete la legge 3 2012 appunto non è una legge nuova per quanto concerne le procedure di composizione del sovraindebitamento è una legge esistente da anni è una legge che ha la sua terminologia i suoi istituti che è già stata applicata anche se meno di quello che tutti ci saremmo aspettati dalla dalla giurisprudenza e grazie anche alla giurisprudenza diciamo così sono state portate avanti alcune interpretazioni innovative positive delle norme della legge 3 2012 che nel suo insieme presentava della versione originaria una serie di luci però anche delle ombre come si dice quando si commentano le norme non una legge perfetta diciamo dal punto di vista dell'effettiva tutela dei sovraindebitati col codice della crisi all'interno di un processo di rinnovamento complessivo di tutto il sistema concorsuale diciamo non soltanto quello che riguarda i soggetti non fallibili ma anche in primo luogo quello che riguarda i soggetti fallibili che non si chiamano più fallibili la parola fallimento e soggetto fallibile giustamente viene espulsa dalla terminologia giuridica e dall'ordinamento in quanto è proprio vocativa di un connotato negativo che è bene dimenticarci ecco il codice della crisi ha rimesso mano però nel suo insieme diciamo così a tutte le procedure concorsuali apportando dei miglioramenti significativi alle procedure di composizione del sovraindebitamento però il codice della crisi che avrebbe dovuto già essere in vigore se non ci fosse stata la pandemia dalla scorsa estate e invece è stato rinviato nel suo insieme nella sua entrata in vigore a settembre prossimo sperando che veda la luce anche se stiamo parlando di sovraindebitamento perché è un codice importante un codice importante su cui comunque ci sono delle ancora tante discussioni aperte e qualche timore almeno da parte mia insomma che si voglia rinviarlo ancora o comunque in qualche modo ostacolarlo ecco quello che si è nell'impossibilità diciamo così di fare la cosa più logica se mi consentite cioè di prendere alcune delle norme del codice della crisi quelle che riguardano le procedure di composizione da sovraindebitamento e farle entrare in vigore subito cosa che è stata scartata proprio a livello politico istituzionale ministeriale giudicata non adatta la strada che si è seguita con l'emendamento Pesco è stata quella di anticipare cioè di spostare dentro l'impianto della legge 3 2012 alcune soluzioni disciplinari la maggior parte delle soluzioni di disciplina più efficaci che sono contenute nel codice della crisi perché ho sottolineato questo aspetto così spendendo anche troppo tempo perché questo dal punto di vista dell'impianto complessivo della legge 3 2012 oggi e lo dico soprattutto a chi deve andare ad applicarla agli operatori ma anche ai giudici non è un risultato ottimale cioè rimangono comunque rimane qualche disarmonia rimane la necessità di interpretare tutto l'insieme della legge 3 2012 così come ce l'abbiamo oggi così come è entrato in vigore in un'ottica sistematica tenendo presente le finalità portate avanti dal codice della crisi quindi non in un modo eccessivamente formale ma direi in più di un punto ma di questo poi parleranno meglio anche le persone che interverranno dopo di me appunto in modo elastico sistematico innovativo ad ogni modo noi abbiamo oggi ci troviamo oggi di fronte a una legge che quindi mantiene le denominazioni anche dei vecchi istituti diciamo così quindi per intenderci si continua a parlare di piano del consumatore si continua a parlare di accordo di ristrutturazione anche quando nel codice della crisi invece queste terminologie sono state sostituite con piano di ristrutturazione dei debiti e con concordato minore ma non abbiamo cambiato i nomi adesso dico abbiamo perché ci abbiamo lavorato tanto tutti molti di quelli che sono qui quindi i nomi sono i nomi e gli istituti sono quelli vecchi sono state anticipate appunto delle soluzioni disciplinari anche per quanto concerne la liquidazione liquidazione del patrimonio così si chiama nella 3.2012 si continua a parlare di liquidazione del patrimonio con la possibilità delle sdebitazioni di diritto che già la legge 3.2012 conosceva ma è stata importata invece su questo tornerò poi un pochino più diffusamente tra breve un istituto nuovo importante che è quello dell'esdebitazione dell'incapiente che invece non era contemplato nella legge 3.2012 ed è stato proprio preso di peso diciamo così dal codice della crisi e portato dentro la legge 3.2012 quindi è un po' un mettere il vino nuovo nelle otri vecchie se così possiamo dire è stata l'unica strada da perseguire però invito davvero a una interpretazione attenta e a un'applicazione oculata delle norme che abbiamo di fronte le principali novità che descrivo veramente in modo rapido perché poi verranno anche approfondite in maniera più puntuale dopo innanzitutto partendo diciamo così dall'inizio se così possiamo dire ci sono alcune novità di segnalare dal punto di vista del dell'ambito di applicazione diciamo di questa normativa perché la nozione di consumatore perdona Antonella ti ho zittita ho visto ho visto l'audio di altre persone scusami no problem mi sono riattivata quindi dicevo la nozione di consumatore è cambiata si è allargata nel senso che adesso possono accedere alle procedure di sovraindebitamento anche consumatori che sono soci di alcune tipologie di società cosa che prima era escluso evidentemente però solo per debiti estranei a quelli sociali e c'è peraltro un altro profilo diverso però diciamo così già che stiamo parlando delle interferenze con il diritto societario che merita di essere preso in considerazione nella nelle nuove norme che cito soltanto però perché poi se ne occuperà più approfonditamente il dottor Didone il presidente Didone che riguarda l'estensione diciamo così ai soci limitatamente responsabili delle procedure di composizione che sono invece realizzate nei confronti della società quindi c'è una doppia novità normativa che ha a che fare con i rapporti fra soci e società diciamo così e questo è un primo aspetto un secondo aspetto che merita di considerare è quello delle procedure familiari lo accennava già prima non so se Giovanni o Alfonso chi ecco questa è una norma nuova che viene introdotta all'interno della legge 3 2012 ed è una norma importante in effetti perché si considera proprio cioè una norma che avvicina l'impianto della legge alla realtà ai dati di realtà molto spesso accade che quando ci sono delle situazioni di sovraindebitamento ci sia più di un membro della stessa famiglia a essere coinvolto in una situazione di sovraindebitamento fino a questo momento le procedure dovevano essere svolte diciamo così in modo individuale non era pensata un'ottica di procedura familiare che coinvolgesse diverse posizioni e che oggi invece con l'articolo 7 bis della legge 3 2012 è possibile ed è possibile quando il sovraindebitamento ha un'origine comune anche nel caso di membri della stessa famiglia che non siano conviventi masse attive e passive rimangono distinte però è un grosso passo avanti diciamo così proprio dal punto di vista dell'efficacia dell'effettività della della procedura di composizione altre novità su cui merita spendere una parola dal punto di vista espansivo sempre cioè della capacità espansiva diciamo così delle procedure di composizione segnalo che mentre nel vecchio impianto della legge 3 2012 c'erano determinate tipologie di debiti tutti quelli legati al mondo dell'accessione del quinto che sono rilevanti per quanto riguarda le situazioni di molti sovraindebitati tutto il mondo dell'accessione del quinto era escluso dalle possibili dalla possibilità di piano del consumatore oggi invece la cessione del quinto e così come la cessione della pensione le operazioni di prestito supegno cioè si è andato ad ampliare diciamo il novero di tipologie di esposizioni debitorie che possono essere prese in considerazione nel contesto delle procedure e questo è espressamente previsto dall'articolo 8 che pure prevede articolo 8 della legge 3 ormai mi riferisco insomma al testo entrato in vigore insomma consolidato dalla legge 3 eppure nell'articolo 8 c'è un altro punto importante da prendere in considerazione cioè la possibilità che nei mutui che sono stati assunti diciamo così dal debitore sovraindebitato non vengano considerati come normalmente prima era per il semplice fatto della procedura scaduti e quindi da trattare cioè da mettere nel paniere vengano invece possano essere mantenuti attivi e possa il debitore continuare a pagare diciamo la scadenza convenuta le rate e questo è una forte agevolazione e anche una significativa novità rispetto alla insomma alla normativa preesistente poi un altro aspetto vedo che anche il tempo va veloce quindi non non vorrei sottrarne troppo agli altri un altro aspetto che mi sembra interessante da sottolineare anche senza entrare troppo nel dettaglio perché ci metterei un po' è che è cambiata la valutazione diciamo così complessivamente parlando è cambiato l'approccio e la valutazione da parte del legislatore del comportamento del debitore e del comportamento invece del finanziatore cioè rispetto alla legge 3 2012 che era una legge diciamo così estremamente rigorosa nei confronti della valutazione del comportamento del debitore e sostanzialmente invece disinteressata se così mi consentite questa espressione alla valutazione invece del comportamento del finanziatore al momento della concessione del credito e l'approccio complessivo risultante dalla riforma della legge 3 2012 che poi è l'approccio del codice della crisi è un approccio molto diverso perché si è attenuato il rigore nei confronti del comportamento del debitore che prima era penalizzato anche nel caso in cui non avesse saputo valutare bene diciamo così la sostenibilità del debito assunto e invece questo grado di rigore nel giudizio diciamo rispetto all'operato del debitore è venuto meno mentre d'altro canto è stata presa in considerazione espressamente è sanzionata con un meccanismo abbastanza originale per la verità la non adeguata valutazione della sostenibilità del debito e quindi non adeguata valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore e questo è un passo avanti nel nostro ordinamento abbastanza significativo che in un certo senso ci avvicina un po' a quello che l'Europa chiede perché come sapete in Europa c'è un tema abbastanza forte di attenzione alla valutazione del merito creditizio compiuta correttamente dal finanziatore tanto nel contesto del credito al consumo quanto nel contesto dei mutui ipotecari e ci sono sentenze recenti anche insomma non una ma più di una della Corte di Giustizia europea che vanno a sanzionare stati membri che nel recepire queste normative quella sul credito al consumo e quella appunto sui mutui ipotecari non hanno sanzionato efficacemente la violazione delle norme sulla valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori ora non so se questa sanzione che è stata introdotta diciamo così nel contesto della legge 3 2012 che è una sanzione che sostanzialmente riguarda delle preclusioni dal punto di vista della formulazione di opposizioni o reclami da parte del creditore finanziatore potrebbe essere considerata eventualmente sufficiente dalla Corte di Giustizia per sanzionare effettivamente in un modo adeguato un comportamento del finanziatore non sufficientemente rigoroso e diligente nella valutazione della sostenibilità del debito però certamente è qualche cosa di più rispetto a quello che era presente nel nostro ordinamento e segnatamente nel testo unico bancario fino a questo momento ed è importante a mio modo di vedere che sia inserito questo tipo di sanzione in un contesto tutto diverso rispetto a quello del testo unico come può essere quello della legge 3 2012 questo peraltro è un tema delicatissimo non ci possiamo fermare a lungo su questo però il tema dell'istruttoria cioè il tema dell'erogazione del credito è un tema che rimane cruciale oggi come oggi e che ha anche tante implicazioni rispetto a tutte le facilitazioni nell'erogazione di crediti che comunque anche in tempo di pandemia insomma si sono verificate perché è molto importante avere presente il criterio della sostenibilità altrimenti fondamentalmente le persone si vanno a inguaiare sin dall'inizio ultimo minuto se posso cito soltanto perché appunto poi in realtà le novità non sono poche le novità che sono state introdotte traghettate dal codice della crisi alla legge 3 non sono poche un'altra norma importante è quella che riguarda il cramdown il cosiddetto cramdown dell'amministrazione finanziaria cioè il fatto che sia possibile per il tribunale omologare l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e anche quando l'adesione dell'amministrazione finanziaria sarebbe decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie questo è un altro aspetto molto innovativo diciamo che grazie al codice della crisi abbiamo potuto importare già adesso nella legge 3 2012 è molto utile evidentemente perché lascia sostanzialmente al giudice insomma più mano libera liberando il rischio diciamo così di tentennamenti o esitazioni di singoli funzionari dell'agenzia dell'amministrazione finanziaria tenendo presente comunque che il cramdown funziona nel rispetto di un altro principio generale uso di nuovo la formula inglese perché alla fine è quella che rende meglio che è il principio del no creditor worse off cioè che comunque si può prescindere dalla adesione diciamo così dell'amministrazione finanziaria soltanto se però l'alternativa che viene offerta all'amministrazione finanziaria in sede di procedura di composizione del sovraindebitamento non è comunque sfavorevole rispetto all'alternativa liquidatoria cioè a quello che comunque l'amministrazione finanziaria potrebbe recuperare se si procedesse in via di liquidazione normale ultimo proprio cenno ma poi sicuramente verrà ripreso anche dopo lo dicevo già prima l'esdebitazione l'avete già detto anche prima l'esdebitazione dell'incapiente è sicuramente una delle più grandi novità introdotte nella legge 3 2012 non c'era prima prima c'era soltanto l'esdebitazione di diritto che continua a esserci e questo è un punto credo che proprio Fabio Cesare ne riparlerà in cui si verifica oggi un disallineamento sostanzialmente fra l'esdebitazione dell'incapiente e l'esdebitazione di diritto originariamente prevista e ancora prevista all'esito della procedura di liquidazione all'interno della legge 3 l'esdebitazione dell'incapiente è un istituto molto rilevante di cui io credo ancora non si sia percepito bene insomma la potenza è estremamente prezioso però per alleggerire per sottrarre diciamo da questo cappio mortale diciamo diritori che hanno la possibilità di un refresh e di una ripartenza liberandosi insomma dal fardello gravoso resistente sulle loro spalle chiudo dicendo che in tutto questo cioè in tutto in tutte queste novità che sono state introdotte cioè tutto questo può funzionare nel momento in cui saremo in grado tutti ognuno nel ruolo che gioca evidentemente di accompagnare i debitori a comprendere queste novità a rivolgersi agli OCC ma prima ancora farsi consigliare quando ancora forse la situazione non è matura già per andare a un OCC quello che si chiama debt advice a livello europeo su cui si insiste tanto cioè una consulenza offerta al debitore nel momento in cui il debitore comincia ad avere delle difficoltà è qualcosa che nel nostro paese invece si conosce poco e dovrebbe invece essere capillarmente diffusa sul territorio proprio per evitare un aggravarsi di situazioni che magari con un consiglio disinteressato e non in un far west che si potrebbe potenzialmente aprire che già si scorge che si aprirà di consulenti più interessati diciamo a se stessi piuttosto che al soggetto che si va a consigliare potrebbero essere però invece tutti strumenti preziosi su cui lavorare a livello di sistema per sostenere appunto questi debitori che già ci sono e quelli che si aggiungeranno purtroppo a fronte di una situazione complessiva sociale economica così difficile come quella che stiamo vivendo grazie grazie mille Antonella passo subito la parola a Fabio Cesare a te Fabio grazie ringrazio gli organizzatori e vedo di partire dagli spunti di Antonella Sciarrone per delineare un intervento che vuole analizzare dei possibili punti critici della nuova fisionomia della legge 3 per offrire qualche chiave interpretativa o qualche chiave di riflessione perché come è stato detto c'è stato un trapianto da parte del legislatore della riforma natalizia di un organo il sovraindebitamento che era all'interno di un corpo che era il codice della crisi ed è stato trapiantato all'interno di un altro corpo che era quello della legge 3 e è ovvio che questo impatto genera la produzione di anticorpi ora il mio intento è quello di iniziare a fornirvi una piccola farmacia ovviamente per spunti di farmaci antirigetto per questo trapianto e per farlo vorrei richiamare un approccio che deve essere ovviamente il più teleologico possibile e meno legato agli aspetti formali parto da due definizioni la rubrica della dell'emendamento della legge di conversione del decreto si chiama semplificazione per l'accesso per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento quindi questo dovrebbe essere il faro che ci dovrebbe orientare nell'interpretazione il secondo tassello sono gli obiettivi del sovraindebitamento che nascono dall'esperienza comparatistica a cosa serve il sovraindebitamento sicuramente non a cancellare completamente i debiti fregandosene della posizione del creditore ma a trovare una posizione di maggiore equilibrio nel rapporto tra debito e credito in questo modo che cosa si raggiunge beh anzitutto una forma di efficienza giurisdizionale un creditore che ha più bene in più circondati di tribunali impegna più procedure esecutive se vengono beneficiate se la giurisdizione beneficia del concorso la procedura concorsuale diventa un catino più efficiente rispetto a plurime procedure esecutive che evidentemente distribuiscono in una maniera più equa secondo i criteri del concorso e non secondo il criterio del chi prima arriva meglio alloggia seconda spinta è quella della fresh start l'esdebitazione di matrice anglosassone se un soggetto è oberato dai debiti verrà probabilmente assorbito dalle necessità di risolvere la sua situazione debitoria non produrrà e non ripartirà il suo consumo che invece è un bene pubblico l'ultimo aspetto è quello della legalità sono solito dire che la spinta alla sopravvivenza è più forte della spinta alla legalità perché l'istinto viene prima ovviamente della legge e quindi se ci sono dei soggetti e ce ne saranno tanti che sono al di sotto della soglia di povertà è facile che vengano intercettati da chi sa meglio gestire rispetto allo Stato questi bisogni li sa adempiere quindi non a caso i primi cinque articoli della legge tre erano tradizionalmente dedicati all'usura e quindi il sovraindebitamento è una spenta di legalità in quest'ottica fatte queste due prime premesse vorrei analizzare quattro flash sulla nuova fisionomia della legge tre che probabilmente possono essere eletti in modo pericolosamente ambivalente il primo gli atti di frode in precedenza non era espressamente previsto che nel piano del consumatore e nell'accordo di composizione della crisi fossero indagati quali elementi ostativi all'apertura gli atti di frode compiuti dal debitore ora sono espressamente previsti in due occasioni per il piano del consumatore gli atti di frode devono essere compiuti se ci sono degli atti di frode il piano del consumatore non può essere aperto attenzione non c'è neanche un limite quindi per assurdo potrebbe essere letteralmente plausibile una lettura che preveda un ostacolo all'apertura della liquidazione del piano del consumatore laddove vengano compiuti degli atti di frode che oramai sono oggetto sono da considerarsi in qualche modo prescritti vediamo sotto quale prospettiva l'accordo di composizione della crisi addirittura arretra la soglia di sensibilità di reazione dell'ordinamento agli atti di frode perché è inibita l'apertura dell'accordo di composizione della crisi laddove vi siano atti diretti a fraudare i creditori quindi viene punito il tentativo altro tassello nella liquidazione del patrimonio viene inserita espressamente la possibilità di intraprendere l'azione revocatoria che sappiamo essere un'azione diretta a far dichiarare l'inefficacia degli atti più o meno consapevolmente diretti a fraudare le ragioni dei creditori con un atto di disposizione a titolo gratuito o a titolo oneroso eppure nell'articolo che disciplina l'articolo quattordici quinques che disciplina le condizioni di apertura della liquidazione del patrimonio è rimasto l'inciso per il quale il giudice dovrebbe verificare all'apertura l'esistenza di atti di frode laddove questi atti di frode appunto non dovrebbero nella liquidazione del patrimonio essere ostativi all'apertura della liquidazione del patrimonio e come facciamo a dare coerenza a queste letture beh per il piano del consumatore e per l'accordo di composizione della crisi la lettura è sicuramente peggiorativa rispetto alla rubrica precedente che prevedeva soltanto nel piano del consumatore la necessità che l'OCC verificasse l'origine del debito ma non di certo così specificatamente l'esistenza di atti di frode dobbiamo almeno ridurre l'indagine a un ambito temporale di cinque anni che è il tempo della prescrizione della revocatoria che in qualche modo potrebbe consentire un'alternativa di soddisfacimento per i creditori tramite la liquidazione del patrimonio e stessa cosa per l'accordo di composizione della crisi ma invece per quanto riguarda l'articolo quattordici se stiamo parlando di una rubrica che deve semplificare l'accesso l'apparente antinomia fra l'esistenza di atti di frode e l'attribuzione al liquidatore giudiziale dell'azione pauliana dell'azione revocatoria non può che far considerare implicitamente abrogato il requisito dell'atto dell'atto di frode quale condizione ostativa per l'apertura della liquidazione del patrimonio diversamente non avrebbe senso attribuire al liquidatore giudiziale che presuppone l'apertura della liquidazione del patrimonio un'azione che proprio la frode stessa presuppone quindi deve essere implicitamente abrogato altro tema la liquidazione del patrimonio senza beni ora sapete che la giurisprudenza di merito ha sostanzialmente innovato la rubrica dell'articolo quattordici quinques prevedendo anche se non è letteralmente previsto che non sia possibile l'apertura di una liquidazione del patrimonio se non è prevista una liquidazione di alcun bene questa tesi si sdoppia in una diciamo giurisprudenza direi più numerosa che risale a un tribunale di Milano del novembre 2017 giudice dottor Macripò che ammette la liquidazione del patrimonio laddove vi sia un reddito prospettico da asservire ai creditori questo in ragione dei costi del liquidatore giudiziale dell'impegno giurisdizionale e della prospettiva di soddisfacimento dei creditori che viene ancorata alla idea costitutiva della liquidazione non vi è sostanzialmente liquidazione in quest'ottica laddove non vi siano beni da liquidare e dunque la liquidazione non è ammissibile bene ne facevo accendo prima Antonella Sciarrone se esiste adesso l'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente che prevede la possibilità addirittura di un colpo di spugna beh mi pare che questa tesi possa considerarsi implicitamente non coerente con il sistema perché c'è la possibilità di impegnare il sistema senza che vi sia una liquidazione certa ma solo prospettica e in più se dobbiamo leggere in modo congiunto l'esdebitazione del debitore incapiente e la liquidazione del patrimonio vi potrebbe essere escludendo la liquidazione senza beni un'area grigia un'area non coperta perché potrebbe esserci un soggetto che pur entrando nell'overo dell'esdebitazione del debitore incapiente non abbia un indebitamento passivo non sia meritevole non abbia tutte le condizioni per accedere all'esdebitazione del debitore incapiente e i principi dai quali vengono trapiantati il corpo dal quale vengono trapiantati gli istituti di recente interpolazione nella legge tre prevedono che il sistema sia chiuso e quindi non ci possa essere un soggetto che è privo di un istituto concorsuale la tesi che prevede che la liquidazione non sia accessibile a coloro che non dispongono di beni lascia aperta un'area tra la liquidazione del patrimonio e le sdebitazioni del debitore incapiente di soggetti privi di tutela concorsuale dunque è fuori sistema a mio modo di vedere quindi la liquidazione del patrimonio senza beni trae una spinta dall'inserimento di questi istituti veniamo invece a una novità come dire sentita ma non così immediatamente efficace da una mia prima lettura del piano del consumatore cioè la sterilizzazione dell'inadempimento delle rate del mutuo ipotecario sull'abitazione principale per effetto dell'autorizzazione del giudice le prime interpretazioni dicono beh salva la prima casa c'è il nuovo 562 non si possono cacciare i debitori la casa viene prima della della tutela dei creditori e beh secondo me in questo istituto non è poi così vero e perché perché è vero che l'istituto permette una purgazione della mora per l'inadempimento delle rate di mutuo impagate all'apertura però non ha inciso sulla possibilità in capo a tutti i creditori creditore fondiario compreso di opporsi a norma dell'articolo 12 bis mi pare quarto comma all'eventuale omologa quando ritenga che la liquidazione del patrimonio possa la liquidazione diciamo la liquidazione dei beni la liquidazione del patrimonio possa essere più interessante più maggiormente soddisfacente per quel creditore poniamo il caso in cui il credito ipotecario sia inferiore al valore venale del bene in questo caso i creditori potranno efficacemente opporsi all'omologa e il giudice non potrà dire che è più conveniente per i creditori con il risultato che il singolo debitore pur essendo stato purgato nel dempimento e pur avendo avuto accesso alla procedura di di del chiano del consumatore si verrà negata l'omologa per effetto di un'opposizione da parte di un creditore che a buon diritto potrebbe far valere la maggiore convenienza in liquidazione del patrimonio che riservi alla distribuzione una quota del valore venale della prima abitazione non coperto dal credito ipotecario in questi casi forse andrebbe valutata che al consumatore diventa una scommessa la liquidazione del patrimonio forse potrebbe dare qualche passaggio in più perché prevede la possibilità di lasciare godere al creditore del di alcuni beni tra i quali evidentemente per gravi motivi tra i quali evidentemente può almeno per un certo periodo essere prevista la prima casa sta per finire il tempo quindi passo subito all'ultimo istituto e a un'ultima riflessione così a volo d'uccello embrionale ma che spero stimoli la discussione nelle riflessioni di tutti il nuovo articolo quattordici quattro deces prevede una inversione della rapporto tra liquidazione del patrimonio e sdebitazione prevedendo l'effetto di sdebitazione prima della liquidazione che evidentemente può essere anche solo eventuale ed è riservata a coloro che non possono distribuire alcuna utilità nemmeno in diretta ai creditori senza scendere al di sotto di una soglia che potremmo definire per comprenderci in modo tecnico di povertà relativa stiamo parlando se uno è da solo di poco meno di 700 euro al mese la domanda può essere presentata una sola volta nella vita è corredata da uno sforzo particolare dell'OCC il quale un po' curiosamente viene pagato la metà che nelle altre procedure ma ecco nella sua relazione deve indicare se è stato violato il merito creditizio con riferimento ai limiti di di reddito che potrebbero far scendere sotto la povertà relativa il debitore questa norma questa previsione che deve corredare la relazione particolareggiata dell'OCC non ha una conseguenza in punto apertura quindi l'esdebitazione del debitore incapiente si può ottenere a prescindere dalla violazione del merito creditizio da parte del creditore né l'opposizione dell'eventuale finanziatore che abbia violato le regole che presiedono l'erogazione del credito sembra apparentemente avere delle limitazioni che invece ha nel piano del consumatore laddove appunto abbia violato il merito creditizio però questa norma deve avere un impatto nel sistema allora la mia proposta è questa probabilmente questa è una norma che ha una funzione di disclosure di informazione dei creditori l'OCC informa i creditori che verranno informati ovviamente in un procedimento a contraddittorio eventuale riferito dal decreto che concede l'esdebitazione dell'incapiente di una possibile violazione del merito creditizio i creditori hanno 30 giorni per porre le loro per fare opposizione che possono dire possono dire o che questo è al di sotto che il debitore non è ha delle utilità rilevanti oppure che è immeritevole oppure che ha creato il suo sovraindebitamento con colpa grave dolo oppure ha commesso degli atti di frode ebbene de facto il creditore finanziario che abbia concorso con una violazione del merito creditizio sterilizza si sterilizza la sua opzione di opposizione perché non potrà dire che l'origine dell'indebitamento è riferibile alla sfera di dominio del debitore e quindi potrà essere paralizzata l'eventuale opposizione del debitore del creditore finanziario che abbia violato le regole del merito creditizio perché è quella una radice giuridica del sovraindebitamento che dunque legittima l'accesso del debitore all'istituto del debitore incapiente in più e questa è una prospettiva che è poco più di uno spunto forse gli altri creditori potrebbero reagire contro il finanziatore che abbia violato delle regole sicuramente imperative e strutturare elaborare il lutto della perdita del credito ma strutturare delle azioni risarcitorie di natura ovviamente aquiliana connesse al comportamento illecito del finanziatore che ha leso le aspettative di credito dei singoli creditori non finanziari per effetto di una violazione della garanzia generica conseguente alla erogazione immeritevole di credito io ho finito spero di non averla sforato eccessivamente e vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Fabio non ho non hai sforato passo la parola ad Antonio Didoni a te presidente buonasera a tutti mi sentite benissimo benissimo prendo le mosse proprio dall'ultima considerazione fatta dall'avvocato Fabio Cesare e prendo le mosse da quel concetto richiamato pure dalla professoressa Sciarrone del credito merito creditizio nozione e norma anticipata dal presa dal codice della crisi innestata nella legge 3 2012 per fare un esempio per rispetto al tema che poi dovrei trattare io per fare un esempio di perché l'ufficio legislativo del ministero della giustizia mi rivolgo a Antonella non la vedo più se c'è perché erano perplessi all'ufficio legislativo ad anticipare alcune norme non tutte perché effettivamente ci sono connessioni varie nelle norme del codice della crisi connessioni varie tra istituti non tutti del sovraindebitamento e applicando soltanto alcune di esse o innestando alcune di esse soltanto si potevano provocare delle disarmonie ma a parte questo c'era il problema e forse neppure ci si è posto il problema per tutte le norme anticipate il problema del correttivo in corso di approvazione perché tra l'altro il correttivo anche dopo il parere delle camere ha avuto un contenuto diverso dallo schema che si aveva presente al momento della predisposizione dell'emendamento diciamo del senatore Pesco emendamento al quale ha lavorato il gruppo Sciarrone io lo chiamo così scusatemi ma per brevità l'articolo tre ter che tratta del merito creditisio ve lo dico chiaramente così poi andiamo a vedere le altre norme che purtroppo risentono di 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 questa di questa situazione per cui fatta entrare in vigore tutta la normativa relativa al sovraindebitamento del codice da crisi avremmo avuto un risultato innestare alcune norme soltanto sulla legge del sul sovraindebitamento come alcuni che erano perplessi avevano occipito in realtà ha avuto delle degli effetti ecco di disarmonia e purtroppo ma io c'è da auspicare che gli interpreti prima i giudici anzi prima ancora i professionisti che appliceranno queste nuove norme poi i giudici arriveranno a una interpretazione di questi innesti che non sia deleterio come conseguenza applicativa l'esempio delle tre terre il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento il suo aggravamento ovvero nel caso di accordo proposto dal consumatore che ha violato i principi di cui l'articolo 124 bis del testo bancario testo unico bancario non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore questo è il testo introdotto con l'emendamento che era il testo dell'articolo 69 del codice della crisi ma il testo attuale dell'articolo 69 del codice della crisi dopo l'approvazione e l'entrata in vigore cioè la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale poi entrerà in vigore insieme al codice della crisi del 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 decreto legislativo correttivo e di tutt'altro tenore nella parte finale dice che quel creditore che ha violato le norme sul merito creditizio non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa mentre non non c'è scritto che né far valere cause di inammissibilità che non delineo comportamenti eccetera questa parte è stata eliminata ed è stato introdotto questo enunciato per contestare la convenienza della proposta cioè non può proporre omologa è opposizione all'omologa per contestare la convenienza della proposta questo perché perché le cause di inammissibilità della proposta del 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 debitore sono rilevabili d'ufficio quelle le può rilevare d'ufficio il giudice quindi non è non si può togliere questa possibilità al creditore quando in effetti poi in sede di omologa è lo stesso giudice che rileva che rileva l'esistenza o meno di questa inammissibilità perché dico questo perché già l'avvocato Fabio Cesare ha menzionato alcune aporie che che si sono verificate con questa introduzione anticipata di norme del codice io vi ho aggiunto pure questa novità nel senso che tra la preparazione dell'emendamento la presentazione l'approvazione c'è stata l'approvazione del decreto correttivo che ha modificato il codice che si andava ad anticipare è una complicazione che capita una volta ogni mille anni secondo me ed è capitata proprio alla legge sul sovraindebitamento andiamo andiamo invece alla alla questione del dei soci limitatamente responsabili vi faccio due esempi sorti nella pratica uno è stato esaminato dalla corte di cassazione a dicembre 2019 si tratta di questo una società in nome collettivo evidentemente sottosoglia quindi legittimata a proporre un accordo di composizione della crisi in base alla legge 3 2012 presenta questa proposta di accordo al tribunale ma la presenta non solo la società ma anche i due soci illimitatamente responsabili il tribunale monocratico nomina l'OCC nomina il professionista incaricato e pone a carico degli standi cioè società e due soci l'onere di anticipare un acconto sul compenso di 4.000 euro per ogni domanda per ogni procedura perché ce n'era una per la società una per un socio e una per l'altro socio e questo facciamo apriamo subito una parentesi questo che sto dicendo che per questa parte è riferita ai professionisti che devono preparare le domande la società e i soci propongono non non depositano le le somme relative ai costi per l'OCC il tribunale revoca la nomina del professionista propongono reclamo al collegio al tribunale informazione collegiale il tribunale conferma il decreto di revoca sostenendo che chi ha ammesso a questa procedura ha l'onere di anticipare le spese per l'OCC ricorso per cassazione ora premessa parentesi questo tipo dei provvedimenti pacificamente non è ricorribile per cassazione è la cassazione in effetti dichiarato inammissibile ricorso però siccome l'articolo 363 del codice procura civile attribuisce questa facoltà questo potere alla cassazione nonostante l'inammissibilità del ricorso la questione è stata decisa non in concreto nel senso che solo la questione astratta di diritto è stata presa in considerazione dalla cassazione che ha enunciato il principio di diritto e che cosa si è detto si è detto ma senza stare a guardare se erano tre o solo una le somme poste a carico delle parti perché non era un tema non era un tema sottoposto alla corte di cassazione cioè non c'era il tema guarda non dovevano essere tre procedure non lo potevano dire perché la domanda l'avevano fatta loro quindi i ricorrenti non potevano non potevano sottolineare questo che cosa invece hanno detto la legge non prevede questa coeruzione per le spese cosa che invece è prevista per il concordato preventivo ad esempio tant'è che se non si versa quella somma viene dichiarato inammissibile il concordato preventivo è stata applicata praticamente una norma simile ora la cassazione ha detto enunciando il principio di diritto è inammissibile ricorso però sia chiaro adesso per sempre che la legge 3 di 2012 non prevede che venga costituito il fondo spese per l'OCC tant'è vero poi non vi sto a dire tutte le spiegazioni dette in sintesi la legge poi prevede il modo di liquidazione del compenso dell'OCC è un un adempimento che segue l'esecuzione della procedura e non la non precede per cui non è previsto nulla a proposito incidentalmente si è detto ma al limite puoi prevedere degli acconti ma non le spese per tutti alla dottrina non è sfuggita questa questa vicenda e la dottrina accorta non parlo di annotatori così occasionali ma proprio dottrina accorta professore ordinario ha annotato questo provvedimento della cassazione ha detto sì il principio sulle spese è corretto siamo d'accordo il ricorso non era ammissibile siamo d'accordo però la vicenda poteva far dire altre cose ecco un momento ho detto prima non per difendere il collegio perché c'ero anche io ma semplicemente perché i ricorrenti non avevano sottoposta alla cassazione la problematica fondamentale che sorge anche con la 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 legge tre come modificata questo perciò vi sto parlando di questo la vicenda la realtà era questa perché anche i soci limitatamente responsabili dovevano presentare la proposta di accordo e non solo la società se come risulta dagli atti in realtà e così la i debiti da ristrutturare erano solo quelli sociali e non quelli e non potevano essere tra l'altro potevano essere anche quelli sociali nella proposta del socio e nell'annotare il provvedimento il professore che l'ha annotato giustamente e correttamente dice guardate ma perché siete andati a presentare tre proposte di accordo in realtà ne bastava una e bastava applicare per analogia o come se fosse applicabile la disposizione dell'articolo 184 ultimo comma lecifallimentare secondo il quale salvo patto contrario e concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci limitatamente responsabili ora all'epoca non c'era l'emendamento pesco per cui questo annotatore faceva riferimento solo alle norme che sarebbero poi entrate in vigore col codice della crisi non immaginava poi che il senatore pesco avrebbe presentato quell'emendamento e in realtà c'è e cosa dice cosa dice quest'emendamento e il termine e guardate la l'enuncia l'enunciato è analogo al 184 cioè la procedura di composizione della crisi l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci limitatamente responsabili ma cosa vuol dire questo che l'esdebitazione che ottiene e questo è pacifico non sto dicendo cose dell'altro mondo l'esdebitazione che ottiene la società presentando l'accordo di composizione della crisi si estende anche a favore dei soci limitatamente responsabili ma senza che loro debbano presentare una procedura una domanda un accordo di composizione anche loro guardate che questa è una cosa di rimente perché proprio proprio questa se devo smettere di dire ma io non sto vedendo l'orologio proprio la mancanza di questa norma e la presenza di altra norma nel codice ha dato luogo a interpretazioni cervellotiche per quanto riguarda la legittimazione dei soci e si insiste ancora si dice no ma era giusto lì presentare tre proposte non una ma tutti per i debiti della società e non c'era bisogno la società ristrutturava i propri debiti automaticamente in base se applicazione analogica d'accordo però l'emendamento pesco ha fatto una cosa sacrosanta ha introdotto formalmente questa norma che riproduce letteralmente l'articolo 184 l'ultimo com della legge fallimentare la sdebitazione della società nel concordato qua nell'accordo di composizione si estende a favore dei soci illimitatamente responsabili è saltata una frase rispetto a 184 un inciso salvo patto contrario vabbè noi l'interpreteremo anche nel senso che è come se fosse così perché le parti poi le parti dei debitori sono liberissimi di dire non voglio soffrire delle sdebitazioni fino a questo punto eccetera secondo me non è un grave danno questo però questo vuol dire che dalla procedura una si estende le sdebitazioni anche ai soci prima conseguenza innanzitutto nel caso deciso dalla Cassazione a dicembre 2019 il tribunale non avrebbe posto a carico delle parti 4.000 4.000 4.000 bensì solo 4.000 quindi forse in quel caso è saltato l'accordo perché non era possibile anticipare 12.000 euro forse 4.000 sì ma così vi pongo io il problema ma è un fatto è un fatto giuridico di correttezza giuridica i soci non possono ristrutturare i debiti della società i soci limitatamente responsabili rispondono dei debiti sociali c'è la professoressa Sciarone io non dovrei dire queste cose con questo tono però faccio finta che sto leggendo un libro scritto da professoressa Sciarone non possono ristrutturare i debiti della società perché loro sono responsabili sussidiariamente cioè il creditore sociale deve prima aggredire il patrimonio della società e solo in caso di incapienza può aggredire il patrimonio dei soci quindi come fa un socio se se non è già in procedura la società perché è questo il punto di rimente alcuni e anche tribunali sostengono che il socio limitatamente responsabile è legittimato improprio e poi si fa uso un abuso della norma che è stata introdotta per quanto riguarda il consumatore poi la vediamo può proporre un accordo di composizione improprio per i debiti della società e non è non è proprio concepibile una cosa del genere perché o la società è già in liquidazione e allora il socio ha già questi debiti e certo voglio vedere come fa a far concorrere i propri creditori con i creditori sociali è ovvio che i creditori sociali porranno a qualsiasi procedura che provi a sottrarre attivo al debito della società e questo è il punto non c'è coordinamento sul punto ma taglio su questo c'è la norma che pure è stata anticipata che consente che considera consumatore ma limitatamente ai debiti extra sociale anche il socio è limitatamente responsabile di una delle società indicate dalla legge cioè quelle limitatamente responsabili società di persone ma che vuol dire vuol dire che può presentare un piano del consumatore per i propri debiti personali anche se è socio limitatamente responsabile della società ma non può mai comprendere nel piano debiti della società questo sia chiaro e tanto per chiudere l'argomento vi do pure una sentenza risalente ma queste sono cose vecchissime datate e consolidate 35 35 del 2006 il socio limitatamente responsabile non è legittimato a proporre il concordato preventivo perché non è non è un imprenditore commerciale lui eventualmente può fallire solo di riflesso ma non è imprenditore commerciale non ha legittimazione a proporre un concordato preventivo ma che si riferisca alla società ovvio stiamo parlando di questo l'unico soggetto che può far ristrutturare i debiti nella società è la società questo sia chiaro a voi sembra una cosa ovvia ma se voi andate a vedere i repertori per modo di dire su internet è pieno di provvedimenti che ammettono alla procedura di composizione della crisi sia sia la società che i soci limitatamente responsabili considerando i debiti sociali vabbè penso che l'ho ripetuto tante volte questo adesso andiamo all'altro caso che si è verificato da poco è per effetto dell'ammendamento pesco perché contiene una norma transitoria che dice le modifiche che abbiamo introdotto è sottinteso tutte quelle a favore del debitore perché erano tutte norme a favore del debitore e si applicano anche alle procedure in corso tra queste norme c'è anche quella l'ultimo comma dell'articolo 14 ter sulla liquidazione dei beni che dice il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci limitatamente responsabili questo enunciato questa norma eh ricalca ve l'ho letto due minuti fa ricalca l'enunciato eh dell'ultimo comma dell'articolo 184 del Cefallimentare e della norma introdotta eh con l'emendamento pesco per quanto riguarda l'estensione dell'estebitazione della società anche a favore dei soci limitatamente responsabili però pronunciata questa cioè introdotta questa norma in una procedura che mira alla liquidazione della società dovrebbe comportare e come in effetti previsto dal codice della crisi anche la messa in liquidazione dei beni dei soci però state messi a dire qua c'è un problema di legittimazione perché nel con la prossima entrata in vigore del codice della crisi legittimati a far aprire una liquidazione eh controllata dei beni del delle società eh o del debitore sovraindebitato non è solo come è oggi solo il debitore ehm sovraindebitato e poi vediamo l'eccezione qual è ma anche i creditori è nell'ipotesi di imprenditori commerciali ovviamente sotto soglia anche il pubblico ministero c'è questa estensione della legittimazione che non esiste nella legge 3 del 2012 la legge 3 del 2012 lo dice chiaramente nel 14 ter dice in alternativa alla proposta per la composizione della crisi il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione poi il 14 quater il giudice su stanza del debitore o di uno dei creditori dispone la conversione dalla procedura di composizione della crisi in liquidazione cioè l'istanza del creditore e non solo del debitore è ammissibile soltanto nell'ipotesi di conversione di una procedura di sovraindebitamento in liquidazione dei beni conversione e non direttamente che cosa invece è accaduto adesso un tribunale del nord legge il questo com il decreto di apertura di liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci limitatamente responsabili legge la norma transitorica applicabile anche alle procedure in corso siccome ha pendente nel tribunale un'istanza di una società SNC e di uno soltanto dei soci di questa SNC che chiede la liquidazione che fa dichiara aperta la liquidazione a carico della società e poi dice applicando anche questa norma che si applica in base a disciplina transitoria dichiara aperta la liquidazione anche a carico di tutti i soci illimitatamente responsabili compreso quello che non aveva sottoscritto la domanda impropria ora a prescindere dalla a prescindere dalla possibilità che non esiste di aprire una liquidazione a carico di un soggetto che non l'ha chiesta senza neppure interpellarlo in questo caso è stata saltata tutta la cosa forse la violazione in sé non c'è perché chi non aveva presentato la domanda di liquidazione improprio era il rappresentante legale che aveva sottoscritto la domanda per la società ma non improprio non l'aveva chiesto improprio voi tenete conto che si si verifichano gli effetti di cristallizzazione del patrimonio anche del socio senza che nessuno gli ha detto vieni forse ti estendiamo la procedura ecco questo ed è in quel caso tutto nullo certo nel codice della crisi ci richiamo alla norma che attuale simile a quella attuale che 147 leggi fallimentare dice prima di dichiarare fallimento dei soci illimitatamente responsabili ne va disposta l'audizione e quella norma è richiamata per la liquidazione giudiziale e poi resa applicabile anche per la liquidazione del sovraindebitato nel codice quindi c'è il procedimento di estensione della liquidazione è previsto ma attualmente non è previsto quindi i tribunali dovranno inventarsi un sistema per rendere dotti gli altri soci dalla pendenza della domanda di liquidazione della società non vado oltre me ho l'impressione che ho rubato tempo sì sei andato un po' fuori Antonio ma grazie mille presidente di queste puntualizzazioni specifiche passo la parola a Chiara Valcipina a te Chiara grazie grazie Alfonso grazie a tutti grazie anche a chi mi ha preceduto io cercherò quindi di essere un pochino più così di contenere il discorso in termini molto generali in modo da dare un'idea di insieme dell'istituto del patrocino e spese dello Stato ma più che altro sotto un profilo così di critico di confronto rispetto alla sua applicabilità che è ovviamente un discorso che se si parla di sovraindebitamento non può non essere preso in considerazione e considerarsi immanente non posso ovviamente entrare nel dettaglio di tutte le norme che lo disciplinano ma credo che sia fondamentale ed è quello che con tanti dei relatori di oggi abbiamo fatto fino ad oggi che ci si interrodi sempre sulla opportunità di dare una spinta alla operatività della legge tra il 2012 e un domani del codice della crisi in tema di sovraindebitamento perché è una disciplina direi fondamentale e lo sarà ancora di più dopo questo periodo di crisi che progetterà molte famiglie e molte persone nella situazione di sovraindebitamento inevitabile tutta la difficoltà dell'applicazione di questa normativa l'ha accennato Antonella è data dal fatto che la legge 3 del 2012 è una legge che è stata sostanzialmente criticata per essere poco fluida di difficile interpretazione ed applicazione e è evidente che è un istituto che nasce dopo quello del patrocino a spese dello Stato che trova il suo fondamento addirittura nella Costituzione nell'articolo 24 dove si dice che anche i nonambienti hanno diritto alla difesa e quindi di avere gli strumenti appositi per poter esercitare i propri diritti essendo una disciplina successiva è chiaro che la dobbiamo conciliare con il sistema del testo unico spese di giustizia che è nato avendo come riferimento istituti che esistevano già e non istituti nuovi non è solo il caso del sovradebitamento la difficoltà applicativa del patrocino a spese dello Stato perché l'abbiamo visto in tante altre figure di degiurisdizionalizzazione o di giurisdizione forense la negoziazione assistita la mediazione cioè laddove si cerca di portare al di fuori del processo una parte della risoluzione delle controversie o comunque della tutela dei diritti è chiaro che l'applicazione del testo unico in spese di giustizia diventa difficoltosa quindi il primo criterio che voglio così porre alla vostra attenzione è che è evidente che non possiamo prescindere dai principi generali del testo unico che dicono che la difesa intesa come patrocino a spese dello Stato è ammissibile laddove ci sia una fase giurisdizionale e non una fase stragiudiziale quindi non contenzione questo è un principio che inevitabilmente condiziona l'applicazione dell'istituto ma in realtà è un falso problema a pensare che rimangono al di fuori dell'applicazione ambiti di estrema competenza che debbano essere compensati perché tutto sommato la fase che viene prima che oggi è stata portata davanti agli OCC si sostanzia nella nomina del gestore e in un'attività preliminare che però inevitabilmente convoglia in quello che poi con il deposito del ricorso diventa l'attività che viene compensata nell'ambito della fase giurisdizionale io credo che la chiave di lettura di tutta questa disciplina non possa che essere in linea con quello che ha detto chi mi ha preceduto quindi Antonella e Fabio nel momento in cui hanno posto l'attenzione e anche il dottor Didone sulla complessità di questa disciplina e quindi su un discorso che è imprescindibile che è quello della difesa tecnica cioè laddove la difesa tecnica si rende necessaria ed opportuna è inevitabile che si debba parlare anche dell'istituto del patrocino a spese dello Stato perché se si vuole dare impulso alla disciplina bisogna fare in modo che tutti vi possano accedere e che lo possano fare debitamente supportati quindi uno dei pregiudizi uno dei fattori che ha spesso portato a ritenere che non si applicasse il patrocino a spese dello Stato che non fosse necessaria la difesa tecnica è proprio il pregiudizio che dice più tecnici ci sono più costa la procedura e quindi si può quasi pensare che questi tecnici non siano necessari che questi costi debbano essere tolti perché sono un ostacolo per il procedere dell'obiettivo di arrivare alla meta allora è evidente che questo è un percorso all'ostacolo ma lo è anche tecnicamente umanamente e in realtà se si vuole rendere fluido a questa applicazione della normativa non si può prescindere da un'elevata professionalità e da un elevato supporto alla persona che deve essere accompagnata a sdebitarsi quindi al di là della necessarietà o meno l'opportunità di avere la consulenza che può essere quella dell'OCC ma fondamentalmente anche dei propri consulenti tecnici a volte è imprescindibile per arrivare all'obiettivo e prima si arriva all'obiettivo e ovviamente prima si ottiene il risultato e si porta un beneficio a 360 gradi il testo unico di spese di giustizia in realtà non può essere interpretato nel senso di escludere il patrocino a spese dello Stato perché questo è stato un grande errore interpretativo fatto fin dall'inizio quando un po' girava la voce in certi tribunali che non fosse possibile il patrocino a spese dello Stato lo evidenzia bene non possiamo parlarne nel dettaglio ma la sentenza di Torino nel 2016 ha parlato appunto dell'ammissibilità del patrocino a spese dello Stato nel sovrandebitamento dà l'idea di come dietro a questo pregiudizio della non applicabilità ci sia in realtà una gran confusione confusione intanto nel ritenere che questo costo potesse essere interpretato come il costo previsto dall'articolo 15 quando dice che la creazione degli OCC non deve creare ulteriori oneri a carico dello Stato questa norma nulla centrava con il patrocino a spese dello Stato e nulla centra perché il patrocino a spese dello Stato è una spesa di bilancio a parte e che riguarda qualsiasi tipo di spesa per la tutela dei diritti dei cittadini a prescindere appunto dalle normative speciali sulla costituzione degli OCC quindi andando a vedere a 360 gradi le norme il testo unico l'applicazione soprattutto in articoli 74 e seguenti 74 e 65 si dice che il patrocino è ammesso laddove uno debbo possa doversi avvalere della difesa tecnica di un avvocato quindi debbo possa significa che laddove tutte queste interpretazioni sia dottrinale che giurisprudenzale andavano a dire siccome è facoltativo siccome è una volontaria giurisdizione visto che non è necessaria la difesa tecnica il patrocino a spese dello Stato non è ammissibile questa è un'interpretazione errata io stessa però da rappresentante delle istituzioni ho dovuto ho dovuto insistere per riuscire a a sciogliere questo nodo interpretativo sapete bene che il patrocino viene concesso con una delibera anticipata dei consigli degli ordini quindi il consiglio dell'ordine ammette preventivamente il patrocino a spese dello Stato e poi la liquidazione ovviamente una liquidazione giudiziale in questa missione preliminare a macchia di Leopardo come è avvenuto un po' per tanti istituti che riguardano la legge tra il 2012 spesso non venivano ammessi già in via preventiva io chiesi anche al mio ordine come mai il mio ordine non ammettesse al patrocino a spese dello Stato nemmeno in via preventiva e uno dei motivi era appunto si diceva non si può illudere un collega del fatto che possa che lavori o che si impegni in una pratica quando poi sappiamo che i procedimenti di volontà della giurisizione in quanto procedimenti in cui non è necessaria l'assistenza tecnica spesso poi non vengono liquidati al termine della fase le spese in cui si è stato ammesso appunto al patrocino ecco io partendo da questo ragionamento ho detto ma scusate il ragionamento che dobbiamo fare è esattamente l'opposto cioè se noi istituzioni per prime non veicoliamo un messaggio interpretativo corretto è evidente che non avremo mai una diffusa applicazione di un istituto che invece nelle mani della normativa del testo unico è pacificamente in termini generali ammessibile tant'è vero che guardando un po' e io non posso parlarvene nel dettaglio ma sicuramente potrete andare a vedere le varie linee guida che si vedono nei vari siti dei tribunali alcuni tribunali hanno proprio previsto l'ammessibilità dicendo che ritengono invece che sia assolutamente compatibile col testo unico spese di giustizia la difesa della difesa il patrocino spese dello Stato nell'ambito del sovrannevitamento e hanno addirittura previsto un po' quelli che dovevano essere i passaggi e come si dovesse arrivare appunto alla richiesta di patrocinio che cosa emerge leggendo un po' queste linee guida che un altro dei problemi applicativi è proprio dato dalla difficoltà di leggere in maniera integrata le normative così come la legge 3 2012 aveva delle grandi difficoltà applicative proprio dovute alla sua poca chiarezza cito un esempio fra tutti la liquidazione l'esdebitazione dell'incapiente che oggi è stata introdotta con la modifica grazie appunto all'ammendamento pesco in realtà non era un principio così consolidato nel senso che esisteva la liquidazione ma non l'esdebitazione esplicita dell'incapiente che adesso è stata normata però io per prima con l'Occ dell'Ordine Avvocato di Milano abbiamo tentato di stimolare un'applicazione giurisprudenziale che dicesse se esiste la liquidazione la liquidazione deve essere possibile anche a chi non ha beni da mettere sul piatto perché è una liquidazione come se fosse fra virgolette un fallimento quindi se io non ho beni perché non devo riuscire ad arrivare alla fine il fatto che dietro all'arragionamento del patrocino spese dello Stato ci fosse anche il pregiudizio del fatto dove la liquidazione non ha utilità non è possibile farla cosa che si è vista in tanti provvedimenti io stessa a Milano all'inizio abbiamo avuto delle sdebitazioni che avremmo potuto considerare le sdebitazioni dell'incapiente delle liquidazioni scusate che avremmo potuto oggi alla luce normativa considerare le liquidazioni di soggetti incapienti e a un certo punto ho avuto anche provvedimenti che invece hanno fatto un passo indietro dicendo questa persona non ha nulla da liquidare e non apro la liquidazione siccome non ci sono utilità che possono essere messe a disposizione ai creditori la liquidazione non si apre ecco dietro a molte linee guida dei tribunali ho letto questo tipo di interpretazione perché si diceva il patrocinio spese dello Stato sostanzialmente funziona come voi di fatto non c'è mai un acconto sulla sulla spesa sull'orario perché viene considerata una sorta di tranne quella del difensore ma quella del gestore dell'OCC una prenotazione a debito e quindi solo alla fine quando di fatto ci sarà il mancato adempimento al piano piuttosto che appunto all'accordo allora verrà pagato con il patrocinio spese dello Stato di cui ovviamente ha avuto un'ammissione preliminare preventiva in realtà appunto oggi un discorso come questo non avrebbe senso cioè ha senso dire che laddove l'istituto della prededuzione copre determinate spese perché è normativamente previsto io avevo fatto un po' l'elenco delle norme ma non c'è tempo per sottolinearle tutte non so l'articolo 6 del codice della crisi piuttosto che le norme sulla liquidazione che richiamano le spese in funzione della procedura cioè laddove c'è una prededuzione allora il punto di equilibrio è che il soddisfacimento dei costi della procedura in senso ampio avviene tramite appunto la prededuzione ma laddove c'è l'incapienza è evidente che da qualche parte diciamo il compenso del professionista che ripeto voglio collegarmi a chi mi ha preceduto non può non essere considerato un fattore virtuoso all'interno di certe procedure tecnicamente complessissime deve essere ricavato ovviamente da istituti come patrocini a spese dello Stato nella mia esperienza pratica devo essere sincera che di casi che presentavano la soglia utile all'ammissione patrocini a spese dello Stato non ne ho incontrate tantissimi nel senso che a volte ci sono soggetti estremamente sovrandebitati ma non necessariamente hanno gli undicimila euro erotti di reddito che sono requisito per avere l'ammissione al patrocino quindi non è detto che solo perché uno è notevole è sovrandebitato necessariamente abbia requisiti però la casistica c'è al punto che noi abbiamo stimolato come istituzione l'ammissione al patrocino quindi l'abbiamo ammesso proprio di una in un caso che ci sembrava socialmente molto molto significativo perché era una una ragazza che aveva aveva perso da libera professionista la sua attività era calata molto non era più in grado di pagare l'affitto aveva degli affitti arretrati ha liberato autonomamente l'immobile perché vedeva che il debito cresceva e dormiva in una in un'auto il suo reddito era calato drasticamente e quindi aveva tutti i presupposti per poter accedere al patrocino ecco in questo caso ad esempio la mia missione preventiva al patrocino a spese dello Stato si è bloccata di fronte alla mancata apertura della liquidazione perché non c'erano non c'erano risorse utilità utili degne di nota per poter effettuare la liquidazione oggi sicuramente avremmo un'esebitazione dell'incapiente quindi superando quelle interpretazioni restrittive prive di senso se guardiamo l'obiettivo della legge che se io devo devo guardare poi possiamo anche soffermarci a criticare all'infinito come viene scritta una normativa ma noi come operatore del diritto abbiamo il dovere di interpretarla nel senso che raggiunga uno scopo perché se no non ha senso quindi se riprendendo quello che diceva Fabio Cesare bisogna guardare all'obiettivo patrocino a spese dello Stato non può non essere come cepito come un istituto imprescindibile quando ci sono i presupposti io credo che però il legislatore sia arrivato a questo risultato perché i riferimenti al patrocino a spese dello Stato indirettamente ci sono anche nel codice della crisi dell'impresa perché nel momento in cui l'esdebitazione dell'incapiente prevede che i compensi dell'OCC vengono dimidiati che è esattamente il termine utilizzato dal testo unico spese di giustizia per i compensi di chi ha messo al patrocino a spese dello Stato viene quasi da pensare che ci sia una sorta di ragionamento di automatismo chi è incapiente inevitabilmente avrà i presupposti per il patrocino a spese dello Stato e quindi il compenso è dimidiato non è così automatico ci ragionavo con Fabio Cesare perché sempre perché il dettato normativo non è mai così cristallino riuscire a comprendere cioè a fare una coincidenza fra quelli che sono i requisiti della testo unico spese di giustizia sul patrocino e la requisito dell'essere incapiente ovviamente non c'è una perfetta sovrapponibilità però i richiami così come lo scopo del legislatore di superare il concetto di fallimento si è strinsecato anche nel linguaggio di dire si parla di liquidazione giudiziale non si parla più di fallimento io credo che nel linguaggio normativo utilizzato dal codice della crisi ci sia in diverse norme dei passaggi che sono assolutamente compatibili con un istituto che è immanente al sistema perché viene prima della legge sul sovraindebitamento ed è appunto un cappello protettivo di qualsiasi procedura a tutela dei diritti che abbia natura appunto giurisdizionale che quindi approdi poi in tribunale come avviene per le procedure da sovraindebitamento ecco non posso fare le tappe di come si arriva a parte la missione preventiva poi alla liquidazione però io credo che sia importantissimo invece che si ragioni in termini di principi il sovraindebitamento è una assolutamente una procedura che deve rientrare nell'albeo e lo è di quelle che possono accedere al patrocino spese dello Stato quando ci sono i presupposti quindi le condizioni di reddito e con quelle limiti anche perché parlando sempre dell'importanza Antonella ha fatto riferimento al far west dei professionisti che potrebbero in questa fase addirittura approfittare della situazione diffusa di necessità di accedere a determinati tipi di istituti ecco non a caso il professionista soggiace a un codice odontologico che dice che laddove uno ha i requisiti per accedere al patrocino e spese dello Stato l'avvocato glielo deve indicare e se così è non può prendere compensi che eccedano siano diversi dal compenso che viene liquidato secondo le norme del patrocino che viene liquidato nell'ambito del patrocino questo significa che anche nella procedura ci si dovrà approcciare con quel parametro di riferimento compensi di immediati della metà e non si può pensare di avere altre utilità perché questo non solo è un illecito deontologico ma è vietato anche dal testo unico spese di giustizia e se ci pensiamo è un punto di equilibrio anche nelle procedure concorsuali perché non vedo perché debbano essere drenate risorse dalla procedura laddove o anche ai creditori stessi laddove appunto c'è un intervento seppur contenuto nel quantum da parte dello Stato perché il soggetto è un soggetto incapiente quindi anche quando io credo che quando ha fatto una riflessione applicativa cioè bisogna sforzarsi di applicare il testo unico agli istituti delle procedure a sovraindebitamento e anche laddove si utilizzi lo strumento della prededizione non bisogna mai dimenticare che la procedura la procedura concorsuale che va a tutela sì del debitore ma anche del creditore quindi la la massa che viene messa a disposizione anche per le spese non può non tener conto che in alcuni casi esiste questo istituto che prevede degli importi appunto ridotti e che quindi è a vantaggio dell'alleggerimento anche della procedura ecco non vorrei poi però che si diciamo sforasse nel pensare che tagliare a tutti i costi le spese della procedura sia sempre un bene ripeto è veramente importante che ci sia cultura professionalità e vengano elevate le competenze perché altrimenti questo percorso ad ostacoli su cui grazie a Dio il legislatore qualche ostacolo lo ha eliminato non porterà mai non porterà mai alla meta con il beneficio collettivo che deve derivare da queste procedure io non so se ho ulteriore tempo però forse qualche minuto se vuoi Chiara e poi passo la parola a Viaggio sì anche perché forse alla fine vorrete fare un po' diciamo magari un confronto finale comunque diciamo che questa normativa quindi è intrinsecamente correlata anche al discorso della difesa tecnica che come sapete anch'esso ha avuto un dibattito così che si è oggi chiarito alla luce appunto del codice della crisi che ha messo in tema di sovrandebitamento nero su bianco quelli che sono gli ambiti in cui obbligatoria l'assistenza tecnica e quelli in cui non lo è però se penso ai primi tempi in cui si applicava la normativa la legge 3 2012 questo principio non era così chiaro tant'è vero che avevamo degli orientamenti giurisprudenziali molto molto diversi a macchia di leopardo dove a volte si riteneva addirittura che non so se l'OCC era un avvocato un professionista non fosse necessaria l'assistenza tecnica in altri casi addirittura la si esplodeva a prescindere ritenendo che la legge 3 fosse una legge speciale in quanto tale i principi dell'82 CPC non fossero applicabili insomma si è creata una gran confusione io credo che con gran usalis con le dovute accortezze invece vadano individuati gli spazi e oggi lo sono col codice a crisi in cui questa difesa è necessaria e in cui quindi può affiancarsi anche il patrocino a spese dello Stato come sapete il codice della crisi seppur all'inizio avesse escluso che fosse necessaria l'assistenza tecnica in tutte le figure in tutte e tre le figure successivamente è stato è stato modificato quando entrate in vigore in modo definitivo nel passaggio fra la Camera e il Senato si è invece tolto il riferimento alla non necessarietà della difesa tecnica quantomeno nell'ambito di quello che oggi è l'accordo con i creditori quindi il concordato minore laddove il fatto che sia stato tolto questo inciso significa che lì l'assistenza tecnica è obbligatoria perché appunto non è previsto che si può procedere anche senza però ripeto il testo unico spese di giustizia parla di dovere o poter avere un'assistenza tecnica quindi anche laddove è meramente facoltativa questa facoltà esiste altro aspetto da tenere in considerazione quando si parla di patrocina spese dello Stato è cercare di declinare la normativa del testo unico in modo tale da avvicinare le varie figure che ci sono nella procedura di sovraindevitamento a quelle previste dal testo unico per cui un conto è la difesa tecnica che è molto semplice perché è l'attività appunto del legale che assiste il sovraindevitato sappiamo che almeno gran parte dei tribunali hanno oggi con la legge 3 2012 non parlo del codice della crisi che appunto ha messo i puntini su lei ma molti richiedono a prescindere che esista un legale per depositare un qualsiasi tipo di ricorso ci sono delle linee guida dove si dice se non c'è l'assistenza del legale il ricorso è inammissibile quindi diciamo che era un tema sicuramente sentito e di ausilio anche per il sistema giudiziario quindi il fatto che ci sia l'affiancamento di una figura professionale però non è identificabile soltanto nella figura del legale che deposita il ricorso la stessa figura dell'OCC laddove si doveva all'inizio ragionare per ricomprenderlo nell'alveo del testo unico spese di giustizia era una figura ibrida perché è più un ausiliario del giudice che non ovviamente una spesa che si doveva considerare come anticipata a carico dell'erario ma era più una sorta di ausiliario e quindi spesa in diciamo da prenotare a debito con tutti i limiti che ha il problema delle prenotazioni a debito cioè deve arrivare all'inadempimento per averne la liquidazione oggi la corte costituzionale ha diciamo con una sentenza dichiarato che devono considerarsi anticipate anche le spese prenotate a debito perché era ritenuta una disparità di trattamento per i consulenti tecnici per le figure che andavano prenotate a debito ingiustificate io non credo di avere altro tempo quindi perché se continuo ci sono tantissimi dettagli tecnici il principio però generale credo che l'abbiamo compreso tutti non si può pensare che un istituto di civiltà come questo non sia assolutamente preso in considerazione e stimolata il più possibile laddove è possibile in base ai principi del testo unico l'applicazione del patrocino a spese dello Stato come anch'io con l'istituzione con l'ordine di cui faccio parte come consigliero ho cercato assolutamente di stimolare facendo anche una mozione al precedente congresso nazionale forense dove abbiamo cercato di stimolare il più possibile l'applicazione e l'interpretazione orientata in questo senso io vi ringrazio grazie grazie mille Chiara certamente questo è un primo passo di incontro di tavola rotonda a cui già prevediamo che succederanno altri e tenetevi sempre in contatto attraverso il nostro chat a te Biagio sì ringrazio Alfonso di questa ulteriore opportunità spero che arrivi la voce sì benissimo grazie per che in effetti questa il tema di questo convegno ed è presente anche il presidente Didone il quale ho letto molte sentenze soprattutto in tema di di rapporto fra la nuova e la vecchia legge e le dirò forse se le ricorderà per cui la stimola lo stimolo che viene sia dalla prolusione della professoressa Scerrone sia dagli altri interventi induce ad una riflessione prima di natura giuridica e poi di natura politica dal punto di vista pratico noi dobbiamo partire da un dato c'è una nota molto bella scritta dal professore dal giurista professore come vogliamo definirlo Massimo Fabiani sulle colonne del foro italiano dove sostanzialmente lui dice in riferimento alla condizione di questa legge rispetto alla precedente dice attenzione noi non dobbiamo soltanto pensare che sul piano nominale sostituire la parola fallimento la parola liquidazione significa aver risolto il problema dobbiamo anche pensare al ruolo che il fallito aveva nella precedente legislazione se questo ruolo di natura sostanzialmente come dire di riflesso minoritario per quelle che sono le sue esigenze sia stato contemplato dal legislatore e l'articolo si conclude con un'espressione amara e c'è stata secondo Massimo Fabiani un'occasione mancata mi riferisco in modo particolare e parto da questo punto per poi arrivare all'automatic stay a quello che è avvenuto e una sentenza della sezione del presidente Didone la prendeva in considerazione al ruolo del fallito durante l'accertamento dello stato passivo durante l'accertamento dello stato passivo secondo l'attuale legge fallimentare il fallito può essere sentito secondo l'attuale la prossima legge il codice della crisi dell'impresa il fallito può essere sentito su questa questione si sono fatte delle dispute di carattere costituzionale perché il dire che il fallito possa essere sentito un altro grande giurista io l'ho letto l'ho trovato finalmente questo libro ne parlai anche con il consigliere Graziano Fabrizio Di Marzio fallimento storia di un'idea ha scritto ci fa comprendere che il fallimento non può essere un istituto inquisitoriale di natura punitiva solo a difesa dell'interesse del creditore diceva un grande giurista napoletano Raffaele Cicala quando ci aveva insegnato l'obbligazione diceva ragazzi è inutile che voi ci girate intorno questo è un codice dove il debitore conta poco anche nel reggio decreto del 1942 il debitore conta poco e faccio un esempio banalissimo sempre citando dei grandi giuristi perché la presenza del presidente Ridone e dell'autorevole professoressa Scerrone ci porta a fare a volte anche queste riflessioni di natura scientifica il famoso rapporto fondamentale se oggi io mi reco ad un accertamento dello stato passivo e presento dei titoli cambiari molto semplicemente l'obbligazione cartolare è lì che trattando di un titolo esecutivo il curatore ammette non si preoccupa il curatore di sentire il fallito né il fallito a volte o perché è uno sciammanato o perché è incolpevole o perché non ha neanche la forza di procurarsi la difesa tecnica di un avvocato potrebbe per esempio sollevare delle eccezioni come diceva il grande Ascarelli il rispetto al rapporto fondamentale andare a verificare perché il curatore questo non lo fa andare a verificare che al fondamento di quella obbligazione cartolare c'era un rapporto fondamentale iniziato questo esempio così illuminante che fa al massimare della Cassazione Fabrizio Di Marzio ci fa comprendere che al momento dell'accertamento dello stato passivo che è il momento si può dire il crocevia di tutta la procedura perché grazie a questo accertamento dello stato passivo si potrebbe anche chiudere con un concordato fallimentare si potrebbe anche pensare se vi è stato o non vi è stata una bancarotta fraudolenta o una bancarotta semplice se vi è stato o non vi è stato una sorta di malagestio da parte della c'è in realtà un momento così importante dove il ruolo del fallito essendo marginale essendo marginale perché i rapporti fondamentali non vengono spesso valutati si trova in questo caso a dover fare in modo che l'accertamento dello stato passivo non corrisponda alla realtà effettiva dei fatti tanto è che qualcuno sostiene Giovanni Locascio dice a volte sembrano più delle adunanze amministrative che delle adunanze che abbiano l'effettiva necessità di capire come si stia evolvendo lo stato passivo questo ruolo del fallito del fallito ecco che ho fatto la riflessione politica una volta lo disse il professor Di Gennaro disse noi dobbiamo fare in modo che all'interno della camera dei deputati se troviamo qualche deputato qualche senatore al palazzo madama che sia comprensivo di quelle che possono essere le esigenze la parte più debole della relazione contrattuale dobbiamo fare in modo che questa gente del cambiamento mi piacque molto questa espressione possa essere da noi sollecitato io che cosa ho fatto ho fatto una lettera a pesco quando l'ho chiamato perché poi è una persona squisitissima io ho detto caro senatore abbiamo fatto 90 facciamo 91 e mi sono permesso perché facemmo anche un congresso a Brescia il congresso dell'ordine dei commercialisti a cui fui invitato anche come relatore di portare proprio a corredo delle mie argomentazioni le idee di Fabrizio Di Marzio il quale sostiene una cosa importante dice attenzione quando si apre una procedura concorsuale poi veniamo al fatto che il sovraindebitamento è stato dalla migliore dottrina ritenuta una procedura concorsuale quindi perciò è stata insinita nel codice della crisi noi non dobbiamo soltanto valutare l'interesse del cito creditorio dobbiamo valutare secondo quei canoni classici che ci derivano dalla da quello che è il dettato del legislatore la buona fede l'equo apprezzamento degli interessi dobbiamo valutare tutti gli interessi tra cui anche quelli del fallito e guardare alla alla legge come una condizione nella quale si possono effettivamente apprezzare e contemplare i medesimi allora facciamo un esempio pratico e andiamo al noccio del tema del segmento che mi è stato tratteggiato per delineare nella prospettazione che ora dirò l'orizzonte costitutivo delle mie riflessioni primo punto perché per esempio è dato in sede di concordato la opportunità di poter beneficiare dell'automatic state quando si deposita i sensi per gli effetti dell'articolo 168 la proposta di concordato c'è l'arresto delle procedure esecutive in corso rispetto a quelle che possono essere evidenti esperienze vissute nelle aule fallimentari quando era agli albori questa legge poi si è snocciolata nel corso del tempo ci siamo resi conto che vi è una discrasia anche di organizzazione giudiziaria cioè una cosa sono i giudici del sovraindebitamento con il tempo ringraziando di Dio questa discrasia pare che si sia assottigliata e una cosa erano i giudici dell'esecuzione sta di fatto che e mi riferisco in modo particolare al debitore incolpevole per non essere poi qualcuno potrebbe dire infatti sulla chat c'è stata una piccola polemica con qualche curatore con qualche caro amico il quale dice tu difendi troppo l'interesse del debitore e non badi anche all'interesse del creditore sta di fatto che chi si vuole avvalere della legge sul sovraindebitamento vuol dire che ha obiettivamente già per la sua incolpevolezza ripeto il debitore incolpevole subito facciamo l'esempio di quel povero lavoratore che ha perduto il lavoro o di quel povero imprenditore che per un incidente non sia più in grado di portare avanti la sua impresa sta di fatto che le azioni esecutive vanno avanti e quando arriva il provvedimento con l'attuale legge arriva il provvedimento del magistrato che sospende le azioni esecutive dichiarandole nulle questo provvedimento addirittura può arrivare anche in ritardo ecco allora che io individuavo sommessamente e questo è una provocazione dialettica intellettuale e giuridica che ovviamente do al presidente Didone e a Sciarroni e a tutti gli amici e al caro Alfonso che guida e cerca di spronarci a difendere sempre in una condizione ripeto di equo apprezzamento gli interessi in contesa sta di fatto e noi dovremmo cercare di fare in modo che l'effetto dell'articolo 168 della legge fallimentare si estenda anche quando il debitore incolpevole attraverso il filtro dell'organismo di composizione della crisi il quale organismo di composizione della crisi e c'è stato un fendente bellissimo della professoressa Cerro molto spesso queste procedure probabilmente servono per i creditori preditucibili e si organizzano come se fossero dei professionisti dell'antimagio diceva il compianto Leonardo Sciascia che sono più bravi in quell'articolo pubblicato sul Corriere della Sera a un certo punto nelle ultime due frasi dice Ciasce dice che io sono un lettore attento dei suoi libri dice è molto impegnativo ma è altrettanto lusinghiero per un magistrato partecipare ad un processo di mafia e quindi la carriera è certamente assicurata la provocazione dialettica era così pungente così penetrante così sarcastica così piena di ironia pirandelliana quanto al punto tale che Leonardo Sciascia diceva i professionisti dell'antimafio sono addirittura una sorte una casta che sono molto più quasi con lo stesso valore d'imperio ovviamente abusandone che sono quasi come quelli della controparte e ci fu la famosa polemica con le luogo orlando perché faccio questo ragionamento perché giustissimamente dice Chiara Valcepina noi dobbiamo stare attenti a come ci comportiamo anche noi professionisti perché in realtà la condizione del fallito non deve essere portata all'esasperazione e quindi in questo caso del sovraindebitato all'esasperazione al punto tale di non poter in quanto non è alle opportunità di accedere a fonti di reddito ragguardevoli e cospicue di non poter ottenere quelli che possono essere i benefici di una legge la battuta che faceva Giovanni Locascio dice i concordati li possono fare soltanto gli imprenditori forti quelli che possono attingere ad altre finanze e molto spesso e lo si è visto poi nella giurisponenza della Cassazione questi concordati finiscono sempre nei fallimenti allora questo è il punto il punto di fondo è e vorrei essere molto veloce perché ci attardiamo stiamo già da molto tempo a discutere la mia provocazione che avevo fatto con questa lettera a senatore Pesco la rivolgo ovviamente a tutti voi cercando di contemperare le due condizioni fare in modo che l'automatic stay la possibilità di sospendere le azioni esecutive in corso che sostanzialmente sono il frutto di quella che è un'attività di aggressione singolare di ogni creditore si pensi alle banche si pensi allo Stato si pensi ai fornitori sempre per il povero debitore incolpevole quindi un soggetto che già di per sé stesso potrebbe superare il filtro della meritevolezza mettere in condizioni che allo stesso modo quando l'organismo di composizione della crisi qualificato allo stesso modo di come lo sia l'attestatore in sede di concordato possa depositando una proposta già ottenere la sospensione degli effetti di quelle azioni già in corso in modo tale che si va a determinare ecco la citazione di Fabrizio Di Marzio che non esiste l'insolvente di serie A e l'insolvente di serie B se c'è se l'imprenditore che rappresenta sostanzialmente a volte solo il suo interesse e non l'interesse dell'intera azienda perché purtroppo la legge fallimentare tutela solo l'interesse del creditore non tutela la parte marginale del ragionamento in una logica non purtroppo di natura costituzionale comporterebbe in ultima analisi una parificazione fra i medesimi quindi il debitore cosiddetto non fallibile che ha beneficiato della legge sul suo indebitamento avrebbe la opportunità in questo caso di non essere un insolvente di serie B e di poter ottenere opportunamente la sospensione delle azioni esecutive infatti se guardiamo anche i DPCM se guardiamo anche questa legislazione da stato di eccezione che è stata snocciolata in questo periodo molto spesso i magistrati sbandavano ma procedura esecutiva significa solo pignoramento o significa anche sospensione delle aste le aste si sospendono solo per la prima casa o si sospendono anche in riferimento a quei poveri imprenditori che sono stati per così dire in una condizione di impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni perché obiettivamente il covid li ha ulteriormente distrutti e così via ci vediamo cioè anche oggi per esempio noi stiamo tremando dall'idea che se andassero in notificate tutte le cartelle esattoriali giustamente al di là della demagogia si potrebbe dire ma dove si vanno a prendere i soldi per pagare queste cartelle esattoriali eppure stanno di lì le notifichiamo o non le notifichiamo le notifichiamo o non le notifichiamo e stiamo lì per subire o meno ulteriormente quello che può essere un assalto come diceva Carlo Marx un assalto che alla fine della fiera ti ritroverai caro caro capitalista così gonfio come la rana che puoi scoppiare e tutto quello che tu hai accumulato non lo puoi rivendere da terzi ecco allora che mi sono permesso di fare questa ulteriore provocazione che ovviamente deve tenere in debita considerazione due interessi l'interesse del debitore a fare sì che l'aggressione dei singoli creditori non faccia venire meno quello che è il suo compendio che va che deve essere valutato adeguatamente per l'interesse del ceto creditore della massa ma anche ovviamente con tutti i benefici dell'avendamento che siamo stati capaci di poter portare avanti anche per fare in modo che come sovraindebitato possa reinserirsi nel circuito sociale reddituale e per esempio ne dico ancora un'altra sia immediatamente cancellato dalla centrale rischi perché poi io posso anche essere un sovraindebitato che ho pagato tutti ho avuto le sdebitazioni ma nella black list delle banche ci sono ancora e anche se avessi opportunamente la possibilità di reinserirmi nel tessuto connettivo della redditività le banche non mi fanno credito quindi anche il cosiddetto diritto all'obbligo per cancellare tutto ciò che apparteneva e l'altro elemento l'abuso del diritto perché l'abuso del diritto non si può verificare solo se ovviamente la domanda è proposta non secondo il cosiddetto concordato in bianco ma secondo il famoso concordato pieno deve essere posta in modo adeguato da un organismo di composizione della crisi che come filtro iniziale già comprenda se vi è o meno la meritevolezza per ottenere la sospensione immediatamente ed evitare le aggressioni cosiddette singole che poi significa che l'effetto fondamentale della legge non sarebbe perseguito ma ve ne dico di più sempre per quel fendente molto carino che ha dato la professoressa Sciarrole si dice che entro quattro anni entro quattro anni si deve porre all'asta il bene quando rientriamo nella logica delle liquidazioni purtroppo mi è capitato personalmente ho fatto uno scontro durissimo con il magistrato e poi alla fine ringrazia di Dio l'ho spuntata c'era una corsa da parte dell'OCC una corsa da parte degli avvocati per ottenere immediatamente la possibilità che il bene venisse subito messo all'asta io mi sono posto una domanda ma perché corriamo così tanto qual è la logica di questa corsa poi ho capito secondo altri tipi di ragionamenti che la corsa si faceva per trovare la soddisfazione dei crediti prededucibili che è un grosso problema è un grosso problema che ha fatto sì che molte proposte di concordato non sono state rese indicati come fattibili perché siamo arrivati ad una definizione così grave che anche il ricavato delle eventuali vendite giudiziarie derivanti dai fallimenti non coprivano neppure le spese dei creditori prededucibili e si è andate avanti sempre così ecco allora che nell'equo contemperamento degli interessi e nella condizione vediamo se questa proposta ovviamente provocatoria sul piano dialettico che ho lanciato possa essere anche per il debitore che non è un soggetto di serie B come diceva giustamente il Di Marzio come aveva sostenuto il Fabiani in questo famoso articolo sul foro sia parificato in tutto e per tutto all'imprenditore e con i dovuti accorgimenti che poi tecnicamente sicuramente saremo capaci di trovarli possa ottenere immediatamente la sospensione di quelle azioni che aggrediscono il suo patrimonio in una logica ecco il punto di verificare ogni legislazione alla luce della carta costituzionale e ritenere che in luogo di ogni dissertazione la nostra stella porale deve essere sempre l'articolo 3 grazie 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 mille Biagio grazie per questo escursus e abbiamo siamo le 7.08 abbiamo sforato di 8 minuti il nostro il nostro orario però se c'è una domanda se forse ho incrociato la domanda di Anna Anna Conti sei tu che hai alzato la mano no Andrea prego volevo dire una cosa molto cercherò di essere molto sintetica allora io sono molto ignorante non sono una giurista ma io vedo due problemi fondamentali uno che tutta la legislazione che si è basata sulla colpa del debitore questo non ci stupisce noi siamo un paese cattolico quindi da noi all'America con le varie gradazioni passando per i paesi europei infatti abbiamo forme diverse e anche impatto diverso della legislazione su quella che poi oggi anche la nostra economia secondo punto c'è uno scarto temporale incredibile tra perché non si tiene conto di che cosa è successo nel nostro paese con l'introduzione di Basilea 3 cioè della ristrutturazione del sistema bancario e quello che è successo a tutta la nostra economia da 2011 allora se oggi non si tiene conto del fatto che da 2011 al 2013 tutta una serie di imprenditori che erano assolutamente in bonus sono stati trasformati in cattivi pagatori e come diceva l'avvocato Riccio noi siamo un paese che siamo riusciti con grandissima fatica io sono presidente dell'associazione difesa debitori ed esecutati abbiamo fatto una lotta terribile cercando di infilare dentro i ristori due tre la possibilità di estendere la sospensiva all'esecuzione degli imprenditori naturalmente non è passata mentre siamo riusciti a far passare quella sulla prima abitazione perché siamo un paese cattolico quindi questo mi pare evidente ora però noi in questo momento però dobbiamo assolutamente affrontare il problema nella diciamo bisogna che sia l'interesse della collettività a essere messo davanti a tutto allora perché ci sia un interesse della collettività oggi vi è a tener conto innanzitutto che tutti i crediti passati quindi le aste sono soprattutto nelle mani di finanziari e quindi non più delle banche che il sistema bancario è stato distrutto ed è stata tolta la liquidità all'economia cioè è stata tolta il rapporto è stato eliminato quello che era la funzione fondamentale delle banche cioè dell'anello di congiunzione tra risparmi e investimento mentre le banche si sono trasformate in Basilea 3 è stato il cavallo di Troia per fare questo le banche sono state trasformate in una aspirapolvere per i risparmi per portarli nella come si chiamano prodotti finanziari i prodotti finanziari che sono rendita quindi si è creato uno sbilanciamento terribile tra investimento e rendita quindi questo cosa ha portato ha innestato un meccanismo di crisi sono velocissima che ha portato alla stagnazione non per il covid prima del covid il covid ha drammaticamente accentuato questa cosa ma questo è un elemento che va assolutamente preso in considerazione oggi dopo il covid ci sarà una valanga di NPL cioè non performing loans cioè tutti i crediti desiderati che distruggerà quel po' che è rimasto del sistema bancario allora a questo punto io vi chiedo questa è la domanda perché non è possibile mettere su un gruppo di lavoro per fare una proposta di legge che salti questo binario in cui è infilata la normativa attuale che è un binario vecchio antico cattolico come vi posso dire che è staccato temporalmente dalla realtà ma partire da una legge che affronti il problema degli NPL e delle AS in un'unica legge semplice non come questa forse forse mi permetto mi permetto di rispondere io perché faccio parte di questo gruppo di lavoro che risale ai tempi della proposta paglia alla decorsa legislatura quello che dice la dottoressa Conti è frutto di un ragionamento che noi stiamo facendo proprio per consentire al debitore di avere anche lui una sorta di possibilità per acquistare il famoso credito credito dalle mani del cedente se andiamo a vedere e vi prego di farlo perché poi alla fine della fiera viene fuori il numero quelli che sono stati i prezzi dei contratti di recessione che ha pubblicato Banca d'Italia ci rendiamo sostanzialmente conto che al di là di quelli che sono i crediti iper garantiti le posizioni dei cedenti vengono veramente svalutati vedi poi tutti gli ammortizzatori sociali vedi tutti gli accantonamenti e quant'altro per le defiscalizzazioni conseguenti cioè un credito di 100 viene addirittura venduto a 7 8 10 e sto esagerando Banca d'Italia è arrivata al 15 20% per quelle che possono essere le posizioni più allettanti noi abbiamo tirato su un gruppo di lavoro insieme al professor pastore a Dino Crivellari al professore Etie che è già nella vecchia legislatura per dire se il cessionario questo fondo così misterioso così esoterico che non conosciamo il volto che addirittura potrebbero essere le stesse banche che lo vanno a dominare quindi ci sono anche incroci di annecquamento dei capitali e quant'altro o addirittura fondi stranieri per evitare ovviamente le fiscalità necessarie se questo fondo ti sta offrendo 10 possiamo dare al debitore e questo è il famoso disegno di legge che ora sta sostenendo sta sostenendo il senatore il senatore Urso possiamo dare al debitore la possibilità che al 10 che ha offerto il cessionario sia data l'opportunità al debitore di offrire 15 nel momento in cui si dà il famoso diritto alla quietanza che poi sarebbe una forma che è intervenuta in Italia storicamente quando c'è stato lo smaltimento dei crediti dell'ASGA con il Banco di Napoli attraverso quel concetto di banca la famosa ricerca della banca perduta che non c'è più che era a misura d'uomo cioè non la banca di Basilea che ci mette il numero e anche se tu sei un grande imprenditore se non hai la liquidità sei fregato scompare dal sistema questa legge io sono stato alla Camera dei Deputati ho avuto l'onore insieme al mio caro amico Alfonso Scarano di essere sentito dai senatori e ricordo che grazie all'intuizione di Alfonso prendemmo di petto in maniera pesante la considerazione che faceva Banca d'Italia cioè Banca d'Italia diceva le cessioni massive sono più opportune più veloci rispetto alla singola cessione se passasse quello che dice l'ingegnere Scarano quello che dice l'avvocato Riccio si bloccherebbe tutta la circolazione degli NPL cioè con la conseguenza che Banca d'Italia ripeto e un mese prima attenzione il governatore di Banca d'Italia cui fece un'altra lettera aveva detto usando le espressioni di Keynes noi dobbiamo fare in modo che lo Stato intervenga a difesa della parte più deboli della relazione contrattuale e dobbiamo fare in modo che attraverso l'insegnamento di Keynes e di Enaudi e di un grande economista qual era Federico Caffè a cui mi onoro di appartenere ci devono dare una mano per fare in modo che questo tipo di che possa emergere anche questo interesse sta di fatto che l'ispettore di Banca d'Italia che venne in audizione disse si oppose in modo penetrante pesante per fare in modo che non passi e che non passasse la legge 788 la legge 788 oggi è ancora un motivo di valutazione da parte di deputati e senatori e mentre il medico studia si dice a Napoli il malato muore gli NPL si continuano a macinare io ho perso il numero l'ingegnere Scarano probabilmente conosce numeri meglio di me insieme al caro amico Dino Crivellari sono dei numeri che non li so neppure neppure immaginare nella loro nella loro realtà sta di fatto sta di fatto che questa mia provocazione su LinkedIn ha trovato moltissimi studi di altissimo livello che sono contro questa legge sono contro la possibilità che il che il disegno di fondo che noi abbiamo fatto con 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 il senatore Paglia era quello di dire il debitore se cessionare ha offerto 20 il debitore offre 25 offre 30 lo possiamo a questo punto cedere il credito lui nel momento in cui ottiene la possibilità di avere il diritto all'acquietanza direttamente dal dal cedente addirittura si diceva nella legge deve essere anche cancellato dalla centrale rischi se passasse questa legge se passasse questa legge come se passasse l'altra legge che voleva un certo Giovanni Falcone quando fu fatta la famosa legge a Santa Maria Capovetere ritornando alla questione delle aste quando ci dice il giudice può sospendere la vendita qualora il bene che sia stato posto all'asta non sia del valore di mercato io mi sono permesso di dire levate quel può e mettete il deve cosa che aveva detto Falcone a Martelli quando fu fatta la legge contro i casalesi per dire ci sono delle fonti delle fonti sul piano generale che i nostri amici e ritorno un'altra volta alla grande possibilità che stiamo ottenendo vedete siamo partiti da Pesco e siamo arrivati a Urso per noi che cerchiamo di dare questi contributi non interessa chi proponga qualcosa a noi interessa che ci sia una sorta di manifesto per il debitore responsabile per il debitore incolpevole che possa trovare una sua tutela ordinamentale che purtroppo o perché i magistrati non me ne voglia il presidente che è di tutt'altro valore molti magistrati a volte diceva Leonardo Ciascia sono come i burocrati del male e pensano più ad una questione amministrativa che ad una questione giurisdizionale e mandano alle ortiche anche l'interesse della parte più debole quindi voglio dire l'equo apprezzamento degli interessi in campo comporterebbe se questa legge venisse 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 come dire attuata venisse ovviamente promulgata resa comporterebbe che parecchi interessi che sono legati e non voglio dire quali siano agli NPL salterebbe tutto in aria cioè qui in effetti siamo di fronte a considerazioni molto pesanti che alla fine purtroppo il diritto lo fanno necessariamente declinare in scelte politiche e lì il problema nostro che non siamo di un orientamento politico io suggerirei ad Alfonso di chiamarci il progetto della Costituzione cioè noi vorremmo fare un partito della Costituzione cioè fare in modo tale che ogni forma di iniziativa legislativa possa ruotare intorno a questi a questi punti fondamentali a questi principi cardine del nostro diritto per la interpretazione necessaria e immagini un po' dottoressa Conti se questa legge passasse che cosa io voglio dire una cosa oggi forse si può tentare non voglio dire che ci si riesca ma si può tentare di mettere insieme le banche con i debitori perché perché le banche ma banca d'Italia chiedo scusa banca d'Italia c'è Alfonso lì che insieme una notte l'abbiamo scritta insieme ha detto non deve passare questa legge scusate non riesco a calzare la mano ma vorrei volevo finire una cosa brevissima oggi le banche stanno perdendo i loro clienti cioè oggi le banche oggi non hanno futuro è vero che non esistono più le banche non esiste più la struttura bancaria che esisteva prima ma quel po' che è rimasto bisogna che noi riusciamo a convincerli che non hanno futuro perché loro vendono prodotti finanziari su cui non hanno nessun controllo qui e non solo ma adesso ormai i giovani tra i 20 e i 40 anni i prodotti finanziari li comprono tramite il cellulare quindi io vorrei proporre questo non riprendere anche io conosco la legge ursa Anna bisogna partire da un dato oggettivo la comunità europea ha già una sua visione la sua visione è una drastica riduzione delle piccole medie banche che verranno inglobate o liquidate e di assassinare tra parentesi le banche che non staranno al passo io sono Europa io sono Europa e non è detto che io debba subire io sono Europa io posso cambiare queste cose posso cambiare Anna ascoltami una politica italiana è suddita di una volontà europea quindi questa istanza non è indirizzata a Roma la deve indirizzare a Bruxelles il che pone tutta una serie di comportamenti e cosa che stiamo facendo del resto tra cui anche l'ultimo articolo che ho scritto con Crivellari perché quella impostazione è come dire molto grave per il paese d'altro canto sono d'accordo per una battaglia superiore ma su una legge su una legge italiana io posso partire da una legge italiana e per quella legge italiana posso cercare intanto c'è una prevalenza Anna c'è una prevalenza della norma europea su quella nazionale addirittura che bypassa la costituzione questo ce lo dobbiamo dire in maniera franca e quindi una norma europea una norma europea è prevalente ma non sto parlando noi non stiamo parlando della stessa norma tu parli di norme bancarie mentre io parlo di una norma che metterebbe l'Italia tra l'altro in riga con gli altri paesi stai errando diamo la parola a Fabio per la chiusura te Fabio sì scusate volevo soltanto invitare a come dire non crearci dei nemici perché secondo me si rischia creandosi dei fantocci di creare dei fantasmi e non vedere la realtà soluzioni che sono un po' più a portata di mano vorrei ricordare che per esempio in tedesco colpa e debito si dicono allo stesso modo quindi non è detto che sia un coordinamento una vicinanza l'accostamento tra debito e colpa è un percorso che dura millenni e vorrei dire che forse per quanto ragionevole sia la proposta che ho letto anch'io temo possa avere dei contorni velleitari per quale ragione e vi do un'altra soluzione perché le banche hanno in pancia il debito pubblico e quindi io non penso che a livello europeo ci possa essere la possibilità di bloccare la fluidificazione di un meccanismo che imponga una procedimentalizzazione della vendita degli NPL secondo me la strada è un'altra è quella di bloccare il recupero degli NPL a valle con un'apertura del sovraindebitamento che consenta di sterilizzare abbassare i prezzi e le possibilità di recupero perché tanto le banche non ascoltano gli istituti finanziari nascono dalla idea costitutiva del mutuo feneratizio voi sapete che cosa diceva Aristotele del mutuo feneratizio fino ai francescani e a e a Calvino il mutuo feneratizio era originariamente non consentito cioè quello che genera degli interessi semplicemente perché rubava del tempo agli altri questo lo diceva tanto Maso no questo lo diceva nella summa teologica riprendendo però Aristotele l'origine è quella l'abitudine la radice di questo contegno è quello di appropriarsi del lavoro degli altri se uno si appropria del lavoro degli altri che tipo di ascolto può avere nei confronti del debito le banche non ascoltano sono procedure quindi van va aggirato il problema dal punto di vista come dire dal punto di vista della soluzione non lo vedo dal punto di vista ideologico possibile lo vedo invece con una possibilità aspetta terminerei un attimo di spiegare questo concetto laddove vi sia invece una sorta di contrapasso rispetto a questo esproprio del tempo per dirla come diceva Aristotele e Santomaso poi l'unica strada è quello di restituire con un write-off un air cut del credito a questo furto con una svalutazione dei crediti conseguente a un sovraindebitamento non vedo altre strade al momento che siano fattibili perché abbiamo ceduto quote di sovranità secondo dei meccanismi che peraltro reggono in piedi sotto il profilo finanziario anche il debito europeo mi permettevo di dire solo un minuto che è stata molto molto stimolante quello che diceva Fabio c'è una norma nel nostro piano del consumatore dove a un certo punto il magistrato interviene e dice ponendo per ipotesi che il debitore incolpevole sia ammesso quindi sia omologato il piano di far digerire di far digerire ai creditori bancari la falciglia tieni presente che tutte le volte che ci sono i piani di consumatori perché anche noi avvocati per dire una cosa buona del codice dell'insolvenza e della crisi la soluzione della liquidazione non è la soluzione primaria è la soluzione ultima residuale io devo sempre verificare se il consumatore se l'imprenditore il povero Cristo incolpevole può essere ammesso io per esempio ho ottenuto un provvedimento al mio tribunale dove il giudice ha visto la finalità e gli ha dato 28 anni facendo digerire alla banca dei balconi molto amari e ha salvato la casa e ora il mio debitore il mio assistito sta pagando con tranquillità tutto invece molto spesso il piano della liquidazione sovraste il piano del consumatore che per il legislatore della crisi è quella residuale cosa voglio dire quello che tu stai dicendo c'è sempre l'intervento giurisdizionale che conta l'intervento giurisdizionale che conta nei patti commissori che conta nelle vendite all'asta cioè il famoso intervento giurisdizionale che vede il magistrato come quello che va a dirimere quei conflitti sociali avendo come stella polare la carta costituzionale questo è il mio ragionamento allora questo gruppo di lavoro deve provocare quanto è più possibile per far uscire fuori questo famoso manifesto del debitore che abbia una tutela ordinamentale che oggi anche con il codice della crisi dell'impresa per autorevole argomentazioni che ho prima sostenuto non c'è grazie grazie Biagio grazie Fabio grazie Chiara grazie Antonio abbiamo sforato di 30 minuti però siamo rimasti in parecchi in 40 su 60 che eravamo all'inizio quindi il tema è molto sentito io vi ringrazio tutti e teniamoci uniti all'interno del gruppo Whatsapp che si è trasferito in Telegram e quindi vi saluto tutti e ci rinnoviamo il prossimo incontro tra qualche settimana ecco perché non abbiamo certo esplorato è solo uno esordio questo incontro di una tappa che ci impegnerà per parecchio tempo immagino grazie 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 Chiara grazie 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 arrivederci